Geremia capitolo quarantaquattresimo La parola che fu rivolta a Geremia in questi termini riguardo a tutti i giudei che dimoravano nel paese d'Egitto e che dimoravano a Megdol, a Tapanes, a Nof, nel paese di Patros. Così parla l'Eterno degli eserciti, l'Iddio d'Israele. Voi avete veduto tutto il male che io ho fatto venire sopra Gerusalemme e sopra tutte le città di Giuda, ed ecco oggi sono una desolazione e non vecchi abiti in esse, a motivo della malvagità che hanno commessa per provocarmi ad ira, andando a far profumi e a servire altri dèi, i quali né essi, né voi, né i vostri padri avete mai conosciuti. E io vi ho mandati tutti i miei servitori, i profeti, ve li ho mandati del continuo fin dal mattino a dirvi, dè non fate questa cosa abominevole che io odio. Ma essi non hanno ubbidito, non hanno prestato orecchio, non si sono stornati dalle loro malvagità, non hanno cessato di offrire profumi ed altri dèi, perciò il mio furore, la mia ira, si sono riversati e hanno divampato nelle città di Giuda, nelle vie di Gerusalemme, che sono ridotte, deserte e desolate, come oggi si vede. Ed ora così parla l'Eterno, lì Dio degli eserciti, lì Dio di Israele. Perché commettete questo grave male contro voi stessi, tanto da farvi sterminare dal mezzo di Giuda uomini e donne, bambine e lattanti, sì che non rimanga di voi alcun residuo? Perché provocarmi ad ira con opere delle vostre mani, facendo profumi ed altri dèi nel paese d'Egitto, dove siete venuti a dimorare? Così vi farete sterminare e sarete abbandonati alla maledizione e all'opprobrio fra tutte le nazioni della terra. Avete voi dimenticato le malvagità dei vostri padri, le malvagità dei re di Giuda, le malvagità delle loro mogli, le malvagità vostre e le malvagità commesse dalle vostre mogli nel paese di Giuda e per le vie di Gerusalemme? Fino ad oggi non v'è stata contrizione da parte loro, non hanno avuto timore, non hanno camminato secondo la mia legge e secondo i miei statuti, che io avevo messi dinanzi a voi e dinanzi ai vostri padri. Perciò così parla all'Eterno degli eserciti, lì Dio di Israele, ecco io volgo la mia faccia contro di voi per il vostro male e per distruggere tutto Giuda. E prenderò i superstiti di Giuda che si sono ostinati a venire nel paese d'Egitto per dimorarvi, e saranno tutti consumati, cadranno nel paese d'Egitto, saranno consumati dalla spada e dalla fame, dal più piccolo al più grande, periranno per la spada e dalla fame, e saranno abbandonati all'esacrazione, alla desolazione e alla maledizione e all'oproprio. E punirò tutti quelli che dimorano nel paese d'Egitto, come ho punito Gerusalemme con la spada e con la fame e con la peste, E nessuno si salverà o scamperà dei superstiti di Giuda che sono venuti a stare nel paese d'Egitto, con la speranza di tornare poi nel paese di Giuda, ove desiderano rientrare per dimorarvi, essi, ad eccezioni di alcuni foggiaschi, non vi torneranno. Allora tutti gli uomini, i quali sapevano che le loro mogli offrivano profumi ed altri dei, tutte le donne che si trovavano qui vi riunite in gran numero, e tutto il popolo che dimorava nel paese d'Egitto, a Patros, rispossero a Geremia, dicendo, Quanto alla parola che ci hai detta nel nome dell'Eterno, noi non ti obbediremo, ma vogliamo mettere interamente ad effetto tutto quello che la nostra bocca ha espresso. Offrire profumi alla Regina del Cielo, farle delle libazioni, come già abbiamo fatto noi, i nostri padri, i nostri rei, i nostri capi, nelle città di Giuda e per le vie di Gerusalemme, e avevamo allora abbondanza di pane, e stavamo bene, e non sentivamo alcun male, ma da che abbiamo cessato di offrire profumi alla Regina del Cielo, e di farle delle libazioni, abbiamo avuto mancanza di ogni cosa, e siamo stati consumati dalla spada e dalla fame. E quando offriamo profumi alla Regina del Cielo, e le facciamo delle libazioni, egli è senza il consenso dei nostri mariti, che le facciamo le focacce a sua immagine, e le offriamo delle libazioni? E Geremia parlò a tutto il popolo, agli uomini, alle donne, e a tutto il popolo che gli aveva risposto a quel modo, e disse, «Non sono forse i profumi che avete offerti nelle città di Giuda e per le vie di Gerusalemme, voi, i vostri padri, i vostri rei, i vostri capi, e il popolo del paese, quelli che l'Eterno ha ricordato e che gli sono tornati in mente? L'Eterno non ha più potuto sopportare a motivo della malvagità delle vostre azioni, e a motivo delle abominazioni che avete commesse. Perciò il vostro paese è stato abbandonato alla devastazione, alla desolazione, alla maledizione, senza che vi sia più chilabiti, come si vede al di d'oggi, perché voi avete offerto quei profumi, avete peccato contro l'Eterno, e non avete ubbidito alla voce dell'Eterno, e non avete camminato secondo la sua legge, i suoi statuti e le sue testimonianze. Perciò vi è venuto questo male che oggi si vede. Poi Geremia disse a tutto il popolo e a tutte le donne, Ascoltate la parola dell'Eterno, o voi tutti di Giuda, che siete nel paese d'Egitto. Così parla l'Eterno degli eserciti di Dio di Israele. Voi e le vostre mogli lo dite con la vostra bocca, e lo mettete ad effetto con le vostre mani. Voi dite, vogliamo adempire i voti che abbiamo fatti, offrendo profumi alla regina del cielo, e facendole delle libazioni. Sì, voi adempite i vostri voti, sì, voi mandate ad effetto i vostri voti, perciò ascoltate la parola dell'Eterno, o voi tutti di Giuda, che dimorate nel paese d'Egitto. Ecco, io lo giuro per il mio gran nome, dice l'Eterno. In tutto il paese d'Egitto il mio nome non sarà più invocato dalla bocca da alcun uomo di Giuda che dica, il Signore l'Eterno vive. Ecco, io vigilo su loro per il loro male, e non per il loro bene. E tutti gli uomini di Giuda che sono nel paese d'Egitto saranno consumati dalla spada e dalla fame, finché non siano interamente scomparsi. E quelli che saranno scampati dalla spada ritorneranno dal paese d'Egitto nel paese di Giuda in ben piccolo numero, e tutto il rumanente di Giuda, quelli che sono venuti dal paese d'Egitto per dimorarvi, riconosceranno qual è la parola che sussiste, la mia o la loro. E questo vi sarà per segno, dice l'Eterno, che io vi punirò in questo luogo affinché riconosciate che le mie parole contro di voi saranno del tutto messe ad effetto per il vostro male. Così parla l'Eterno. Ecco, io darò Faraone offre a re d'Egitto in mano dei suoi nemici, in mano di quelli che cercano la sua vita, come ho dato Sedechia re di Giuda in mano di Nebuchadnezzar, re di Babilonia, suo nemico, che cercava la vita di lui. Geremia, capitolo quarantacinquesimo La parola che il profeta Geremia rivolse a Baruch, figliolo di Neria, quando questi scrisse queste parole in un libro a dettatura di Geremia, l'anno quarto di Gioia, figliolo di Giosia, re di Giuda. Egli disse, Così parla l'Eterno, il Dio di Israele, riguardo a te, Baruch. Tu dici, guai a me, poiché l'Eterno aggiunge tristezza al mio dolore. Io mi affanno a gemere e non trovo requie. Digli così, così parla l'Eterno. Ecco ciò che ho edificato, io lo distruggerò. Ciò che ho piantato, io lo sradicherò. E questo farò in tutto il paese. E tu cercheresti grandi cose per te? Non le cercare, poiché ecco io farò venire del male sopra ogni carne, dice l'Eterno. Ma a te darò la vita come bottino in tutti i luoghi dove andrai. Geremia capitolo quarantaseiesimo Riguardo all'Egitto, cerca l'esercito di Faraone Neco, re d'Egitto, che era presso al fiume Eufrate, a Carmesh, e che Nabucodonestà, re di Babilonia, sconfisse il quarto anno di Gioia, a Chin, figliolo di Giosia, re di Giuda. Preparate lo scudo e la targa, e avvicinatevi per la battaglia. Attaccate i cavalli, e voi, cavalieri, montate e presentatevi con gli elmi in capo. Forbite le lance e indossate le corazze, perché io vi veggo sbigottiti, io vi veggo volti in rotta. I loro prodi sono sconfitti, si danno alla fuga senza volgersi indietro. D'ogni intorno è terrore, dice l'Eterno. Il veloce non fugga, il prode non scampi, al settentrione presso il fiume Eufrate, vacillano e cadano. Chi è colui che sale come il Nilo, e le cui acque s'agitano come quelle dei fiumi? È l'Egitto che sale con me, il Nilo, le cui acque s'agitano come quelle dei fiumi, e gli dice, Io salirò, ricoprirò la terra, distruggerò le città e i loro abitanti. All'assalto, cavalli, al galoppo, carri, si facciano avanti i prodi, quei d'Etiopia e di Put, che portino lo scudo, e quei di Lud, che maneggiano e tendano l'arco. Questo giorno, per il Signore, per l'Eterno degli eserciti, è giorno di vendetta, in cui si vendica dei Suoi nemici. La spada divorerà, si sazierà, si inebrierà del loro sangue, poiché il Signore, l'Eterno degli eserciti, immola le vittime del paese del Settentrione, presso il fiume Eufrate. Sali a Galahad, prendi del balsamo, vergine figliuola d'Egitto. In vano, molteplici i rimedi, non v'è medicatura che valga per te. Le nazioni odono la tua ignominia, e la terra è piena del tuo grido, poiché il prode vascilla, appoggiandosi al prode, ambedue cadono assieme. Parola che l'Eterno rivolse al profeta Geremia sulla venuta di Denabucadonestà, re di Babilonia, per colpire il paese d'Egitto. Annunziatelo in Egitto, banditolo a Migdol, banditolo a Nof, a Tempanes, e dite, levati, preparati, poiché la spada divora tutto ciò che ti circonda, poiché i tuoi prodi sono essi atterrati, non possono resistere, perché l'Eterno li abbatte. Egli ne fa vacillare molti, essi cadono l'un sopra l'altro, e dicono, andiamo, torniamo al nostro popolo e al nostro paese natio, sottraiamoci alla spada micidiale. Là essi gridano, Faraone, re d'Egitto, non è che un vano rumore, ha lasciato passare il tempo fissato. Com'è vero che io vivo, dice il re, che a nome l'Eterno degli eserciti il nemico verrà, come un tabor, fra le montagne, come un carmel che s'avanza sul mare. Oh, figliuola che abiti l'Egitto, fai il tuo bagaglio per la cattività, poiché Nof diventerà una desolazione, sarà devastata, nessuno vi abiterà più. L'Egitto è una giovenca bellissima, ma viene un tafano, viene dal settentrione. Anche i mercenari che sono in mezzo all'Egitto sono come vitelli da ingrasso, anche essi valgono poco, volgono il dorso, fuggono tutti assieme, non resistono, poiché piomba su di loro il giorno della loro calamità, il tempo della loro visitazione. La sua voce giunge come quella d'un serpente, poiché s'avanzano come un esercito, marciano contro lui con scuri come tanti tagliaboschi, essi abbattano la sua foresta, dice l'Eterno, benché sia impenetrabile, perché quelli sono più numerosi delle locuste, non si possono contare. La figliuola dell'Egitto è coperta a donta e data in mano del popolo del settentrione. L'Eterno degli eserciti, l'Idio di Israele, dice, Ecco, io punirò Amon di No, faraone d'Egitto e i suoi dèi, i suoi re, faraone e quelli che confidano in lui, li darò in mano di quelli che cercano la loro vita, in mano di Nabucadenestar e di Babilonia, e in mano dei suoi servitori, ma dopo questo l'Egitto sarà abitato come ai giorni di prima, dice l'Eterno. Tu dunque non temere, o Giacobbe, mio servitore, non ti sgomentare, o Israele, poiché ecco io ti salverò da lontano paese, salverò la tua progenie dalla terra della sua cattività. Giacobbe ritornerà, sarà in riposo, sarà tranquillo e nessuno più lo spaventerà. Tu non temere, o Giacobbe, mio servitore, dice l'Eterno, poiché io son teco, io annienterò tutte le nazioni fra le quali ti ho disperso, ma non annienterò te, però ti castigherò con giusta misura e non ti lascerò del tutto impunito. Geremia, capitolo quarantasettesimo La parola dell'Eterno che fu rivolta al profeta Geremia riguardo ai Filistei prima che Faraone colpisse Gaza. Così parla l'Eterno. Ecco, delle acque salgono dal settentrione, formano un torrente che straripa, esse inondano il paese e tutto ciò che contiene. Le città e i loro abitanti, gli uomini mandano grida, tutti gli abitanti del paese urlano. Per lo strepito delle unghie dei suoi potenti destrieri, per il rumore dei suoi carri e il fracasso delle ruote, i padri non si voltano verso i figlioli, tanto le mani sono divenute fiacche, perché giunge il giorno in cui tutti i Filistei saranno devastati, in cui saranno soppressi i restanti ausiliari di Tito e di Sidone. Poiché l'Eterno devasterà i Filistei, ciò che resta dell'isola di Kaftor, Gaza è divenuta calva, Ascalon è ridotta al silenzio, i resti degli Anachim, fino a quando vi farete delle incisioni? O spada dell'Eterno, quanto sarà che ti riposerai? Rientra nel tuo fodero, fermati e rimani tranquilla. Come ti potresti tu riposare? L'Eterno le dà i Suoi ordini, le addita Ascalon e il nido del mare. Geremia capitolo quarantottesimo Così parla l'Eterno degli eserciti lì Dio di Israele, guai a nebo, poiché è devastata, Chiriata imme coperta donta è presa, Misgab è coperta donta e sbigottita, il vanto di Moab non è più, Esh Bon macchinan del male contro di lui, venite, distruggiamolo e non sia più nazione. Tu pure, Obad Mansar ridotta al silenzio, la spada ti insanguinerà, delle grida vengono da Eronheim, devastazione e gran rovina. Moab è infranto, i Suoi piccini fanno udire i loro gridi, poiché su per la salita di Luhith si piange, si sale piangendo, perché è giù per la discesa di Oronainso del grido angoscioso della rotta. Fuggite, salvate le vostre persone, siano esse come una temerice nel deserto, poiché siccome ti sei confidato nelle tue opere, nei tuoi tesori, anche tu sarai preso, e che Moshe andrà in cattività coi suoi sacerdoti e coi suoi capi. Il devastatore verrà contro tutte le città e nessuna città scamperà, la valle perirà e la pianura sarà distrutta come l'Eterno ha detto. Date delle ali a Moab, poiché bisogna che voli via, le sue città diventeranno una desolazione senza che più vabiti alcuno. Maledetto colui che fa l'opera dell'Eterno fiaccamente, maledetto colui che trattiene la spada dallo spargere il sangue. Moab era tranquillo fin dalla sua giovinezza, riposava sulle sue fecce, non è stato travasato da vaso a vaso, non è andato in cattività, per questo ha conservato il suo sapore e il suo profumo non si è alterato. Perciò ecco i giorni vengono, dice l'Eterno, che io gli manderò dei travasatori che lo travaseranno, vuoteranno i suoi vasi, frantumeranno le sue anfore, e Moab avrà vergogna di che Moshe come la casa di Israele ha avuto vergogna di Betol, in cui aveva riposto la sua fiducia. Come potete dire, noi siamo uomini prodi, uomini valorosi per la battaglia? Moab è devastato, le sue città salgano in fumo, il fiore dei suoi giovani scende al macello, dice il re che ha nome l'eterno degli eserciti. La calamità di Moab sta per giungere, la sua sciagura viene a gran passi, compiangetelo voi tutti che lo circondate, e voi tutti che conoscete il suo nome dite come è sprezzato quel forte scetro, quel magnifico bastone. Oh figliuola che abiti in Dibon, scendi dalla tua gloria, siedi sul suolo riarso poiché il devastatore di Moab sale contro di te, distrugge le tue fortezze. Oh tu che abiti in Aorer, fermati per la strada e guarda, interroga il fiugiasco e colei che scampa, e di che è successo? Moab è coperto d'onta perché è infranto. Mandate urli, gridate, annunziate sull'Arnon che Moab è devastato. Un castigo è venuto sul paese della pianura sopra Olom, sopra Jahaz, su Maaf, su Dibon, su Nebo, su Bed-Diblatahim, su Kiriatahim, e su Beth-Gamul, su Beth-Meom, su Kiriot, su Bossra, su tutte le città del paese di Moab lontane e vicine. Il corno di Moab è tagliato, il suo braccio è spezzato, dice l'Eterno. Inebriatelo, poiché egli si è innalzato contro l'Eterno e si rotoli in Moab nel suo vomito e diventi anch'egli un oggetto di scherno. Israele, non è egli stato per te un oggetto di scherno? Era egli forse stato trovato fra i ladri che ogni volta che parli di lui ti scuoti il capo? Abbandonate le città e andate a stare nelle rocce o abitanti di Moab. Siate come le colombe che fanno il loro nido sull'orlo dei precipizi. Noi abbiamo udito l'orgoglio di Moab, l'orgoglissimo popolo, la sua arroganza, la sua superbia, la sua fierezza, l'alterice del suo cuore. Io conosco la tua tracotanza, dice l'Eterno, che è malfondata e le sue vanterie che hanno approdato a nulla stabilire. perciò io alzo un lamento su Moab ed ho ingridi per tutto Moab, perciò si geme per quelle di Chir-Eres, o vigna di Sibna, io piango per te più ancora che Gisarer, i tuoi rami andavano oltre il mare e arrivavano al mare di Gisarer e devastavano, il devastatore piombato su tutti i frutti d'estate e sulla tua vendemmia. La gioia e l'allegrezza sono scomparse dalla fertile campagna e dal paese di Moab. Io ho fatto venire meno il vino negli strettoi, non si pigia più l'uva con grida di gioia, il grido che sode non è più grido di gioia, gli alti lamenti di Eshbon giungono fino a Lealel, si fanno dire fino a Jahaz, da Zohar fino a Ronayim, fino a Elash Shelisha, perfino le acque di Nimbrim sono prosciugate e io farò venire meno in Moab dice l'Eterno chi salga sull'alto luogo e chi offra profumi ai suoi dèi. Perciò il mio cuore geme per Moab come gemono i flauti, il mio cuore geme come gemono i flauti per quelle di Kir Eres perché tutto quello che avevano ammassato è perduto poiché tutte le teste sono rasate, tutte le barbe sono tagliate, su tutte le mani ci sono delle incisioni e sui fianchi dei sacchi, su tutti i tetti di Moab e sulle sue piazze dappertutto è lamento poiché io ho frantumato Moab come un vaso da cui non si fa stima di sorta dice l'Eterno. come è stato infranto urlate come Moab ha avvolto vergognosamente le spalle come Moab è diventato lo scherno e lo spavento di tutti quelli che gli stavano dintorno poiché così parla l'Eterno ecco il nemico offende l'aria come l'aquila spiega le sue ali verso Moab che riot è presa le fortezze sono occupate e il cuore dei prodidi Moab in quel giorno è come il cuore di una donna in doglia di parto Moab sarà distrutto non sarà più popolo poiché sei innalzato contro l'Eterno spavento fossa laccioti sopprastanno abitante di Moab dice l'Eterno chi fugge dinanzi allo spavento cade nella fossa chi risale dalla fossa riman preso al laccio poiché io fo venire su lui su Moab l'anno in cui dovrò rendere conto dice l'Eterno all'ombra di Eshborn i fuggiaschi si fermano spostati ma un fuoco esce da Eshborn una fiamma di mezzo a Sihon che divora i fianchi di Moab il sommo dei capi dei figli del tumulto guai a te o Moab il popolo di Chemosh è perduto poiché i tuoi figlioli sono portati via in cattività e in cattività sono menate le tue figliole ma io farò tornare Moab dalla cattività negli ultimi giorni dice l'Eterno fin qui il giudizio su Moab Geremia capitolo quarantanovesimo così parla l'Eterno Israele non ha egli figlioli non ha egli erede perché dunque Malcom prendegli possesso di Gad e il suo popolo abita nelle città adesso perciò ecco i giorni vengono dice l'Eterno che io farò udire il grido di guerra contro Rabb dei figlioli di Amon essa diventerà un mucchio di ruine le sue città saranno consumate dal fuoco allora Israele spodesterà quelli che l'avevano spodestato dice l'Eterno urla o Eshbon poiché hai è devastata gridate o città di Rabba cingetevi di sacchi date in lamenti correte qua e là lungo le chiusure poiché Malcom va in cattività insieme coi suoi sacerdoti e i suoi capi perché ti glori tu delle tue valli della tua fertile valle o figliuola infedele che confidavi nei tuoi tesori e dicevi chi verrà contro di me ecco io ti fo venire addosso tutti i tuoi dintorni il terrore del Signore l'Eterno degli eserciti egli viene e voi sarete scacciati in tutte le direzioni e non vi sarà chi raduni i fuggiaschi ma dopo questo io trarrò dalla cattività i figliuoli di Amon dice l'Eterno riguardo ad Edom così parla l'Eterno degli eserciti non v'è egli più saviezza in tema gli intelligenti non sanno essi più consigliare la loro saviezza è essa svanita fuggite voltate le spalle nascondetevi profondamente o abitanti di Dedam poiché io fo venire la calamità sopra Esau il tempo della sua punizione se i devendemmiatori venissero a te non lascerebbero essi dei raccimoli se i devladri venissero a te di notte non guasterebbero più di quanto a loro bastasse ma io nuderò Esau scoprirò i suoi nascondigli ed è non si potrà nascondere la sua prole i suoi fratelli i suoi vicini saranno distrutti e i dei non sarà più lascia i tuoi orfani io li farò vivere e le tue vedove confidino in me poiché così parla l'Eterno ecco quelli che non erano destinati a bere la coppa la dovranno bere e tu andresti del tutto impunito non andrai impunito tu la verrai certamente poiché io giuro per me stesso dice l'Eterno Bostra vi verrà una desolazione un obbrobrio un deserto una maledizione e tutte le sue città saranno delle solitudini eterne io ho ricevuto un messaggio dall'Eterno e un messaggio è stato inviato fra le nazioni adunatevi venite contro di lei levatevi per la battaglia poiché ecco io ti rendo piccolo fra le nazioni e sprezzato fra gli uomini lo spavento che ispiravi l'orgoglio del tuo cuore t'ha sedotto e tu che abiti nelle fessure delle rocce che occupi il sommo delle colline ma quando anche tu facessi il tuo nido tant'alto quanto quello dell'Aquile io ti farò precipitare di lassù dice l'Eterno ed Edom diventerà una desolazione chiunque passerà presso di lui rimarrà stupito e si darà a fischiare a motivo di tutte le sue piaghe come avvenne al sovvertimento di Sodoma e di Gamorra e di tutte le città loro vicine dice l'Eterno nessuno più abiterà quivi e non vi dimorerà più alcun figliolo d'uomo ecco egli sale come un leone dalle rive lussureggianti del Giordano contro la forte di Mora io ne farò fuggire a un tratto Edom e stabilirò su di essa colui che io ho scelto perché chi è simile a me chi mi ordinerà di comparire in giudizio qual è il pastore che possa starmi a fronte perciò ascoltate il disegno che l'Eterno ha concepito contro Edom e i pensieri che medita contro gli abitanti di Teman certo saran trascinati via come i più piccoli del greggio certo la loro dimora sarà devastata al rumore della loro caduta trema la terra so del loro grido fino al Mar Rosso ecco il nemico sale fende l'aria come l'aquila spiega le sue ali verso Bostra e il cuore dei prodidi Edom in quel giorno è come il cuore d'una donna in doglie di parto In riguardo a Damasco Hamat e Arpad sono confuse poiché hanno udito una cattiva notizia vengono meno è un'agitazione come quella del mare che non può calmarsi Damasco diviene in fiacca si volta per fuggire un tremito l'accolta angoscia e dolori si sono impadroniti di lei come di donna che partorisce come mai non è stata risparmiata la città famosa la città della mia gioia così i suoi giovani cadranno nelle sue piazze e tutti i suoi uomini di guerra periranno in quel giorno dice l'eterno degli eserciti ed io appiccherò il fuoco alle mura di Damasco ed esso divorerà i palazzi di Ben Hadad riguardo a Kedar e ai regni di Hazor che Nabucadenestar e di Babilonia sconfisse così parla l'eterno levatevi salite contro Kedar distruggete i figliuoli dell'Oriente le loro tende i loro greggi saranno presi saranno portati via i loro padiglioni tutti i loro bagagli i loro cammelli si griderà a loro spavento da tutte le parti fuggite dileguatevi ben lungi nascondetevi profondamente o abitanti di Hazor dice l'eterno poiché Nabucadenestar re di Babilonia ha formato un disegno contro di voi ha concepito un piano contro di voi levatevi salite contro una nazione che gode pace ed abita in sicurtà dice l'eterno che non ha né porte né sbarre e dimora solitaria siano i loro cammelli dati in preda e la moltitudine del loro bestiame diventi bottino io disperderò a tutti i venti quelli che si tagliano i canti della barba e farò venire la loro calamità da tutte le parti dice l'eterno Hazor diventerà un ricetto di sciacalli e una desolazione in perpetuo nessuno più abiterà quivi non vi dimorerà più alcun figliolo d'uomo la parola dell'eterno che fu rivolta in questi termini al profeta Geremia riguardo ad Elam al principio del regno di Sedachia re di Giuda così parla l'eterno degli eserciti ecco io sprezzo l'arco di Elam la sua principal forza io farò venire contro Elam i quattro venti delle quattro estremità del cielo li disperderò a tutti quei venti e non ci sarà nazione dove non arrivino dei fuggiaschi di Elam renderò gli Elamiti spaventati dinanzi ai loro nemici e dinanzi a quelli che cercano la loro vita farò piombare su loro la calamità la mia ira ardente dice l'eterno manderò la spada di inseguirli finché io non li abbia consumati e metterò il mio trono in Elam e ne farò perire i re e i capi dice l'eterno ma negli ultimi giorni avverrà che io trarrò Elam dalla cattività dice l'eterno Geremia capitolo cinquantesimo parola che l'eterno pronunziò riguardo a Babilonia riguardo al paese dei caldei per mezzo del profeta Geremia annunziatelo fra le nazioni proclamatelo issate una bandiera proclamatelo non lo scelate dite Babilonia è presa Bel è coperto d'onda Merodach ed è infranto le sue immagini sono coperte d'onda i suoi idoli infranti poiché dal settentrione sale contro di lei una nazione che ne ridurrà il paese in un deserto e non vi sarà più alcuno che abiti in lei uomini e bestie fuggiranno e se ne andranno in quei giorni in quel tempo dice l'eterno i figlioli di Israele e i figlioli di Giuda torneranno assieme cammineranno piangendo e cercheranno l'eterno il loro Dio domanderanno qual è la via di Sion volgeranno le loro facce in direzione d'esse e diranno venite unitevi all'eterno con un patto eterno che non si dimentichi più il mio popolo era un greggio di pecore smarrite i loro pastori le avevano sviate sui monti dell'infidelità essi andavano di monte e incolle avevano dimenticato il luogo del loro riposo tutti quelli che le trovavano le divoravano e i loro nemici dicevano noi non siamo colpevoli poiché essi han peccato contro l'eterno dimora della giustizia contro l'eterno speranza dei loro padri fuggite di mezzo a Babilonia uscite dal paese dei caldei e siate come decapri davanti al greggio poiché ecco io suscito e fo salire contro Babilonia una dunata di grande nazioni dal paese del setentrione ed esse si schiereranno contro di lei e da quel lato sarà presa le loro frecce sono come quelle di un valente arciere nessuno d'esse ritorna vuoto e la caldea sarà depredata tutti quelli che la prenderanno saranno saziati dice l'eterno si gioite si rallegratevi o voi che avete saccheggiato la mia eredità si saltate come una giovenca che trebbia il grano nitrite come forti destrieri la madre vostra è tutta coperta d'onta colei che va partoriti arrossisce ecco esse è l'ultima delle nazioni un deserto un'arrida terra una solitudine un motivo dell'ira dell'eterno non sarà più abitata sarà una completa solitudine chiunque passerà presso a Babilone rimarrà stupito e fischierà per tutte le sue piaghe schieratevi contro Babilone d'ogni intorno o voi tutti che tirate l'arco tirate contro di lei non risparmiate le frecce poiché essa ha peccato contro l'eterno levatevi contro di lei e il grido di guerra d'ogni intorno ella si arrende le sue colonne cadono le sue mure crollano poiché questa è la vendetta dell'eterno vendicatevi di lei fate a lei come se ha fatto sterminate da Babilonia colui che semina e colui che maneggia la falce nel tempo della messe per scampare alla spada micidiale ritorni ciascuno al suo popolo fugga ciascuno verso il proprio paese Israele è una pecora smarrita a cui dei leoni è andato la caccia il re d'Assiria per primo l'ha divorata e quest'ultimo da Bucadenestà il re di Babilonia ne ha frantumate le ossa perciò così parla l'eterno degli eserciti lì Dio d'Israele ecco io punirò il re di Babilonia e il suo paese come ho punito il re d'Assiria e ricondurrò Israele ai suoi pascoli egli pasturerà Carmel in Basan e l'anima sua si sazierà sui colli di Efraim in Galahad in quei giorni in quel tempo dice l'Eterno si cercherà l'iniquità di Israele ma essa non sarà più e i peccati di Giuda ma non si troveranno poiché io perdonerò a quelli che avrò lasciati del resto sali contro il paese di Mer-Tahim e contro gli abitanti di Pecod inseguili con la spada votali allo sterminio dice l'Eterno e fa esattamente come io t'ho comandato sode nel paese un grido di guerra è grande è il disastro come mai s'è rotto s'è spezzato il martello di tutta la terra come mai Babilonia è divenuta una desolazione fra le nazioni io t'ho teso un laccio e tuo Babilonia vi sei stata presa senza che te ne accorgessi e sei stata trovata ed arrestata perché ti sei messa in guerra contro l'Eterno l'Eterno ha aperto la sua armeria e ha tratto fuori le armi della sua indignazione poiché questa è un'opera che il Signore l'Eterno degli eserciti ha da compiere nel paese dei caldei venite contro a lei da tutte le parte aprite i suoi granai ammucchiatela come tante mannelle votatela allo sterminio che nulla ne resti uccidete tutti i suoi tori fateli scendere al macello guai a loro poiché il loro giorno è giunto il giorno della loro visitazione so della voce di quelli che fuggano che scampano dal paese di Babilonia per annunziare in Sion la vendetta dell'Eterno del nostro Dio la vendetta del suo tempio convocate contro Babilonia e gli arcieri tutti quelli che tirano d'arco accampatevi contro a lei d'ogni intorno nessuno ne scampi rendetele secondo le sue opere fate interamente a lei come ella ha fatto poiché ella è stata arrogante contro l'Eterno contro il Santo d'Israele perciò i suoi giovani cadranno nelle sue piazze e tutti i suoi uomini di guerra periranno in quel giorno dice l'Eterno eccomi a te o arrogante dice il Signore l'Eterno degli eserciti poiché il tuo giorno è giunto il tempo che io ti visiterò l'arrogante vacillerà cadrà e non vi sarà chi la rialzi e io appiccherò il fuoco alle sue città ed esso divorerà tutti i suoi dentorni così parla l'Eterno degli eserciti i figliuoli di Israele e i figliuoli di Giuda sono oppressi insieme tutti quelli che li hanno menati in cattività li tengono e rifiutano di lasciarli andare il loro vindice è forte a nome l'Eterno degli eserciti certo egli difenderà la loro causa dando requi alla terra e gettando lo scompiglio fra gli abitanti di Babilonia la spada la spada sovrasta ai caldei dice l'Eterno gli abitanti di Babilonia ai suoi capi ai suoi savi la spada sovrasta ai millantatori che risulteranno insensati la spada sovrasta ai suoi prodi che saranno atterriti la spada sovrasta ai suoi cavalli ai suoi carri a tutta la cozzaglia di gente che è in mezzo a lei la quale diventerà come tante donne la spada sovrasta ai suoi tesori che saranno saccheggiati la siccità sovrasta alle sue acque che saranno prosciugate poiché è un paese di immagini scolpite vanno in delirio per quelli spauracchi dei loro idoli perciò gli animali del deserto con gli sciacalli si stabiliranno quivi e vi stabiliranno gli struzzi nessuno vi demorerà più in perpetuo non sarà più abitata ad età in età come avvenne quando Dio sovvertì Sodoma e Gamorra e le città loro vicine dice l'Eterno nessuno più abiterà qui vi non vi dimorerà più alcun figlio al Duomo ecco un popolo viene dal settentrione una grande nazione e molti re sorgono dall'estremità della terra essi impugnano l'arco ed il dardo sono crudeli non hanno pietà la loro voce è come il muggito del mare montan cavalli sono pronti a combattere come un sole guardiero contro di te o figliuola di Babilonia il re di Babilonia no della fama e le sue mani si languidiscono l'angoscia lo coglie un dolore come di donna che partorisce ecco egli sale come un leone dalle rive lussureggianti del Giordano contro la forte di Mora io ne farò fuggire ad un tratto gli abitanti e stabilirò su di essa colui che io ho scelto poiché chi è simile a me chi ordinerà di comparire in giudizio a me qual è il pastore che possa starmi a fronte perciò ascoltate il disegno che l'Eterno ha concepito contro Babilonia e i pensieri che medita contro i paesi dei caldei certo saranno trascinati via come i più piccoli del greggio certo la loro dimora sarà devastata al rumore della presa di Babilonia trema la terra e sode il grido fra le nazioni Geremia capitolo cinquantunesimo così parla l'Eterno ecco io faccio levare contro Babilonia e contro gli abitanti di questo paese che è il cuore dei miei nemici un vento distruttore e mando contro Babilonia degli stranieri che la ventoleranno e vuoteranno il suo paese poiché nel giorno della calamità piomberanno su di lei da tutte le parti tenda l'arciere il suo arco contro chi tende l'arco e contro chi surge fieramente nella sua corazza non risparmiate i suoi giovani votate allo sterminio tutto il suo esercito cadano uccisi nel paese dei caldei crivellati di ferite per le vie di Babilonia perché Israele e Giuda non sono vedovati dal loro Dio dell'Eterno degli eserciti e il paese dei caldei è pieno di colpe contro il santo di Israele fuggite di mezzo a Babilonia e salvi ognuno la sua vita guardate di non perire per l'iniquità di lei poiché questo è il tempo della vendetta dell'Eterno egli le dà la sua retribuzione Babilonia era nelle mani dell'Eterno una coppa d'oro che si inebriava da tutta la terra le nazioni hanno bevuto del suo vino perciò le nazioni sono divenute delirianti a un tratto Babilonia è caduta e frantumata mandate su di lei alti lamenti prendete del balsamo dal suo dolore e forse guarirà noi abbiamo voluto guarire Babilonia ma essa non è guarita abbandonatela e andiamocene ognuno al nostro paese poiché la sua punizione arriva sino al cielo si innalza fino alle nuvole l'Eterno ha prodotto in luce la giustizia della nostra causa venite raccontiamo in Sion l'opera dell'Eterno del nostro Dio forbite le saette imbracciate gli scudi l'Eterno ha eccitato lo spirito del re De Medi perché il suo disegno contro Babilonia è di distruggerla perché questa è la vendetta dell'Eterno la vendetta del suo Tempio alzate la bandiera contro le mura di Babilonia rinforzate le guardie ponete le sentinelle preparate gli agguati poiché l'Eterno ha visitato ed è già mette ad effetto sciocchi ha detto contro gli abitanti di Babilonia o tu che abiti in riva le grandi acque tu che abbondi di tesori la tua fine è giunta il termine delle tue rapine l'Eterno degli eserciti ha giurato per se stesso sì certo io tempirò di uomini come di locuste ed essi leveranno contro di te grida di trionfo egli con la sua potenza ha fatto la terra con la sua sapienza ha stabilito fermamente il mondo con la sua intelligenza ha disteso i cieli quando fa udire la sua voce ve un rumore d'acqua nel cielo e fa salire i vapori dall'estremità della terra fa guizzare i lampi per la pioggia e trae il vento dai suoi serbatoi ogni uomo allora diventa stupido privo di conoscenza ogni orafo ha vergogna delle sue immagini scolpite perché le sue immagini fuse sono una menzogna e non v'è soffio vitale in loro sono vanità lavoro d'inganno nel giorno del castigo per Iranno a loro non si omiglia a colui che è la parte di Giacobbe perché egli è quel che ha formato tutte le cose e Israele è la tribù della sua eredità il suo nome è l'eterno degli eserciti oh Babilonia tu sei stata per me un martello uno strumento di guerra con te ho schiacciato le nazioni con te ho distrutto i regni con te ho schiacciato cavalli e cavalieri con te ho schiacciato i carri e che vi stava sopra con te ho schiacciato uomini e donne con te ho schiacciato vecchi e bambini con te ho schiacciato giovani e fanciulle con te ho schiacciato i pastori e i loro greggi con te ho schiacciato i lavoratori e i loro buoi aggiogati con te ho schiacciato governatori e magistrati ma sotto gli occhi vostri io renderò a Babilonia e tutti gli abitanti di Caldea tutto il male che han fatto a Sion dice l'Eterno eccomi a te o montagna di distruzione dice l'Eterno a te che distruggi tutta la terra io stenderò la mia mano su di te e ti rotolerò giù dalle rocce e farò di te una montagna bruciata ed a te non si trarrà più pietra angolare né pietra da fondamenta ma tu sarai una desolazione perpetua dice l'Eterno issate una bandiera sulla terra suonate la tromba fra le nazioni preparate le nazioni contro di lei chiamate raccolta contro di lei i regni di Ararat di Minni e da Scanats costituite contro di lei dei generali fate avanzare i cavalli come locuste dalle ali ritte e preparate contro di lei le nazioni i re di media i suoi governatori tutti i suoi magistrati e tutti i paesi dei suoi domini la terra trema è indoglia perché i disegni dell'Eterno contro Babilonia si affettuano di ridurre il paese di Babilonia in un deserto senza abitanti i prodi di Babilonia cessano di combattere se ne stanno nelle loro fortezze la loro bravura è venuta meno sono come donne le sue abitazioni sono in fiamme le sbare delle sue porte sono spezzate un corriere incrocia l'altro e un messaggero incrocia l'altro per annunziare al re di Babilonia che la sua città è presa da ogni lato che i guadi sono occupati che le paludi sono in preda alle fiamme che gli uomini di guerra sono allibiti poiché così parla l'Eterno degli eserciti l'Ideo di Israele la figliuola di Babilonia è come un'aia al tempo in cui si trebbia ancora un poco e verrà per lei il tempo della mietitura nel cabudanestà il re di Babilonia ci ha divorati ci ha schiacciati ci ha posti là come un vaso vuoto ci ha ingoiati come un dragone ha impito il suo ventre con le nostre delizie ci ha cacciati via la violenza che mi è fatta e la mia carne ricadano su Babilonia dirà l'abitante di Sion il mio sangue ricada sugli abitanti di Caldea dirà Gerusalemme perciò così parla l'Eterno ecco io difenderò la tua causa e farò la tua vendetta io prosciugherò il suo mare dissicherò la sua sorgente e Babilonia diventerà un monte di ruine e un ricetto di sciacalli un oggetto di stupore e di scherno un luogo senza abitanti essi rugiranno assieme come leoni grideranno come piccini di leonese quando saranno riscaldati darò loro da bere l'inebriropo che siano allegri e poi si addormentino d'un sonno perpetuo e non si risvegliano più dice l'Eterno io li farò scendere al macello come agnelli come montoni come capri come mai è stata presa Sheshach ed è stata conquistata con lei che era il vento della terra come mai Babilonia e ella diventato una desolazione fra le nazioni il mare è salito su Babilonia esse è stata coperta dal tumulto dei suoi flutti le sue città sono diventate una desolazione una terra arrida un deserto un paese dove non abita qualcuno per dove non passa alcun figlio il duomo io punirò Bel in Babilonia e gli trarrò di gola ciò che ha trangugiato e le nazioni che non affluiranno più a lui perfino le mura di Babilonia son cadute oh popolo mio uscite di mezzo a lei e salvi ciascuno la sua vita dinnanzi all'ardente ira dell'eterno il vostro cuore non s'avvilisca e non vi spaventate delle voci che sudranno nel paese poiché un anno correrà una voce e l'anno seguente correrà un'altra voce vi saranno nel paese violenza dominatore contro dominatore perciò ecco i giorni vengano che io farò giustizia delle immagini scolpite di Babilonia e tutto il suo paese sarà coperto d'onta e tutti i suoi feriti a morte cadranno in mezzo a lei e i cieli la terra e tutto cià che in essi giubileranno su Babilonia poiché i devastatori piomberanno su lei dal settentrione dice l'eterno come Babilonia ha fatto cadere i feriti a morte di Israele così in Babilonia cadranno i feriti a morte di tutto il paese o voi che siete scampati dalla spada partite non vi fermate ricordatevi da lungi dell'eterno e Gerusalemme vi ritorni in cuore noi eravamo coperti d'onda all'udire gli oltraggi la vergogna ci copriva la faccia perché gli stranieri erano venuti nel santuario della casa dell'eterno perciò ecco i giorni vengono dice l'eterno che io farò giustizia delle sue immagini scolpite e in tutto il suo paese gemeranno i feriti a morte quando anche Babilonia se levasse fino al cielo quando anche rendesse inaccessibili i suoi alti baluardi le verranno da parte mia dei devastatori dice l'eterno giunge da Babilonia un grido la notizia di un gran disastro dalla terra dei caldei poiché l'eterno devasta Babilonia e fa cessare il suo grande rumore le onde dei devastatori muggono come grandi acque se ne ode il fracasso poiché il devastatore piomba su lei su Babilonia i suoi prodi sono presi i loro archi spezzati giacché l'eterno è l'iddio delle retribuzioni non manca di rendere ciò che è dovuto io inebrierò i suoi capi e i suoi savi i suoi governatori e i suoi magistrati i suoi prodi ed essi si addormenteranno d'un sonno eterno e non si risveglieranno più dice il re che ha il nome l'eterno degli eserciti così parla l'eterno degli eserciti le larghe mura di Babilonia saranno spianate al suolo le sue alte porte saranno incendiate sicché i popoli avranno lavorato per nulla le nazioni si saranno stancate per il fuoco ordine dato dal profeta Geremia a Serai figliolo di Neria figliolo di Measia quando si recò a Babilonia con Sedechia re di Giuda il quarto anno del regno di Sedechia Seria era il capo dei ciamberlani Geremia scrisse un libro tutto il male che doveva accadere a Babilonia cioè tutte queste parole che sono scritte riguardo a Babilonia e Geremia disse a Seria quando sarai arrivato a Babilonia avrai cura di leggere tutte queste parole dirai o Eterno tu hai detto di questo luogo che lo avresti distrutto sì che non sarebbe più abitato né da uomo né da bestia e che sarebbe ridotto in una desolazione perpetua e quando avrai finito di leggere questo libro ti legherai una pietra e lo getterai in mezzo alle Eufrate e dirai così affonderà Babilonia e non si rialzerà più a motivo del male che io faccio venire su di lei cadrà esausta fin qui le parole di Geremia Geremia capitolo cinquantaduesimo Zedekia aveva ventun anni quando cominciò a regnare e regnò a Gerusalemme undici anni sua madre si chiamava Amutal figliuola di Geremia di Libna egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno in tutto e per tutto come aveva fatto Iachin e a causa dell'ira dell'Eterno contro Gerusalemme e Giuda le cose arrivarono al punto che l'Eterno li cacciò dalla sua presenza e Sedechia si ribellò al re di Babilonia l'anno nono del regno di Sedechia il decimo giorno del decimo mese Nabucodonestà re di Babilonia venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme si accampò contro di lei e la circondò di posti fortificati e la città fu assediata fino all'undicesimo anno del re Sedechia il nono giorno del quarto mese la carestia era grave nella città e non c'era più pane per il popolo del paese allora fu fatta una breccia nella città e tutta la gente di guerra fuggì uscendo di notte dalla città per la via della porta fra le mura e la prossimità del giardino del re mentre i caldei stringevano la città da ogni parte e i fuggiaschi presero la via della pianura ma l'esercito dei caldei inseguì il re raggiunse Sedechia nelle pianure di Gerico e tutto l'esercito di lui si disperse e l'abbandonò allora i caldei presero il re e lo condussero al re di Babilonia a Ribla nel paese di Amat ed egli pronunziò la sua sentenza contro di lui il re di Babilonia fece scannare i figlioli di Sedechia in presenza di lui fece pure scannare tutti i capi di Giuda a Ribla poi fece cavare gli occhi a Sedechia e il re di Babilonia lo fece incatenare con una doppia catena di rame e lo minò a Babilonia e lo mise in prigione dove rimase fino al giorno della sua morte ora il decimo giorno del quinto mese era il diciannovesimo anno di Nabucca de Nestar re di Babilonia Nabucca Radan capo della guardia del corpo al servizio del re di Babilonia giunse a Gerusalemme e arse la casa dell'Eterno e la casa del re diede alle fiamme tutte le case di Gerusalemme e arse tutte le case riguardevoli e tutto l'esercito dei caldei che era col capitano della guardia atterrò da tutte le parti le mura di Gerusalemme Nabucca Radan capitano della guardia amenò in cattività una parte dei più poveri del popolo i superstiti che erano rimasti nella città i fuggiaschi che saranno arresi al re di Babilonia e il resto della popolazione ma Nabucca Radan capitano della guardia lasciò alcuni dei più poveri del paese a coltivare le vigne e i campi i caldei spezzarono le colonne di rame che erano nella casa dell'Eterno le basi il mare di rame che era nella casa dell'Eterno e ne portarono via il rame a Babilonia pressero le pignate le palette i coltelli i bacini le coppe e tutti gli utensili di rame con i quali si faceva il servizio e il capo della guardia prese pure le coppe i bracieri e i bacini e le pignate i candelabri e le tazze e i calici d'oro di ciò che c'era d'oro e d'argento di ciò che era d'argento quanto alle due colonne del mare e i dodici buoi di rame che servivano di base che Salomone aveva fatti fare per la casa dell'Eterno il rame di tutti questi oggetti aveva un peso incalcolabile l'altezza di una di queste colonne era di diciotto cubiti e a misurarla in giro ci voleva un filo di dodici cubiti aveva uno spessore di quattro dita ed era vuota e vera su un capitello di rame dell'altezza di ogni capitello era di cinque cubiti attorno al capitello vera un reticolato e delle melagrane ogni cosa di rame e lo stesso era della seconda colonna adornapure di melagrane verano novantasei melagrane da ogni lato e tutte le melagrane attorno al reticolato ammontavano a cento il capitano della guardia prese il seraia il sommo sacerdote sofonia il secondo sacerdote e i tre custodi della soglia e prese nella città un enucco che comandava la gente di guerra sette uomini di fra i consiglieri intimi del re che furono trovati nella città e il segretario del capo dell'esercito che arruolava il popolo del paese e sessanta privati che furono anch'essi trovati nella città Nabusaradan capitano della guardia li prese e li condusse al re di Babilonia a Ribla e il re di Babilonia li fece colpire e mettere a morte a Ribla nel paese di Amath così Giuda fu menato in cattività a lungi dal suo paese questo è il popolo che Nabucatenestar menò in cattività il settimo anno 3.023 giudei il diciottesimo anno del suo regno menò in cattività da Gerusalemme 832 persone il ventitresimo anno di Nabucatenestar Nabusaradan capitano della guardia menò in cattività 745 giudei in tutto 4.600 persone il trentasettesimo anno della cattività di Ioiachim re di Giuda il venticinquesimo giorno del dodicesimo mese Evel Meradoc re di Babilonia l'anno stesso che cominciò a regnare fece grazie a Ioiachim di Giuda e lo trasse di prigione gli parlò benignamente e mise il trono d'esso più in alto di quello degli altri re che erano con lui a Babilonia gli fece mutare i suoi vestiti di prigione e Ioiachim mangiò sempre la tavola con lui per tutto il tempo che visse e in quanto al suo mantenimento durante tutto il tempo che visse esso gli fu dato del continuo da parte di re di Babilonia giorno per giorno fino al giorno della sua morte le lamentazioni capitolo primo come mai siede solitaria la città già così popolata come mai è diventata simile a una vedova a quella che era grande fra le nazioni ed è stata ridotta tributaria colei che era principessa fra le province e la piange piange durante la notte le lacrime le coprono le guance fra tutti i suoi amanti non ha chi la consoli tutti i suoi nemici l'hanno tradita tutti i suoi amici sono diventati nemici Giuda è andato in esilio a motivo dell'afflizione e del duro selvaggio abita in mezzo alle nazioni non trova riposo tutti i suoi persecutori l'han raggiunto quando era fra le gole strette le vie le vie di Sion fanno cordoglio perché nessuno viene più alle solenni assemblee tutte le sue porte sono deserte i suoi sacerdoti sospirano le sue vergini sono addolorate ed è la stessa piena d'amarezza i suoi avversari hanno preso il sopravvento i suoi nemici prosperano perché l'eterno l'ha afflitta per la moltitudine delle sue trasgressioni i suoi bambini sono andati in cattività davanti all'avversario e dalla figliuola di Sion se ne è andato tutto il suo splendore i suoi capi sono diventati come cervi che non trovano pastura e se ne vanno spossati dinnanzi a colui che li insegue nei giorni della sua afflizione della sua vita errante Gerusalemme si ricorda di tutti i beni preziosi che possedeva fino dai giorni antichi ora che il suo popolo è caduto in mano dell'avversario e nessuno la soccorre i suoi avversari la guardano e ridono al suo misero stato Gerusalemme ha gravemente peccato perciò è divenuta come una cosa impura tutti quelli che l'onoravano la sprezzano perché han visto la sua nudità e la stessa sospira è volta la faccia la sua lordura era nelle pieghe della sua veste e la non pensava la sua fine perciò è caduta in modo sorprendente non a chi la consoli oh eterno vedi la mia afflizione poiché il nemico trionfa l'avversario ha steso la mano su quanto ella aveva di più caro poiché ella ha visto i pagani entrare nel suo santuario quei pagani riguardo ai quali tu avevi comandato che non entrassero nella tua radunanza tutto il suo popolo sospira cerca del pane dà le cose sue più preziose in cambio di cibo per rianimare la sua vita guarda oh eterno vedi in che stato abbietto io son ridotta nulla di simile va venga o voi che passate di qui mirate e guardate se vè dolore pari al dolore da cui sono oppressa e col quale l'eterno ma afflitta nel giorno dell'ardente sue ira dall'alto egli ha mandato un fuoco nelle mie ossa che se ne è impadronito egli ha teso una rete ai miei piedi m'ha rovesciata a terra m'ha gettata nella desolazione in un languore di tutti i giorni dalla sua mano è legato il gioco delle mie trasgressioni che se intrecciavano e gravavano sul mio collo egli ha affiaccato la mia forza il signore m'ha dato in mano alle quali non posso resistere il signore ha atterrati contro il mio recinto tutti i miei prodi ha convocato contro di me una grande radunanza per schiacciare i miei giovani il signore ha calcato come in un tino la vergine figliuola di giuda per questo io piango e i miei occhi i miei occhi si strugano in lacrime perché lungi da me è il consolatore che potrebbe rianimarmi la vita i miei figliuoli sono desolati perché il nemico ha trionfato Sion stende le mani e non v'è alcuno che la consoli l'Eterno ha comandato ai nemici di Giacobbe di circondarlo da tutte le parti Gerusalemme è in mezzo a loro come una cosa impura l'Eterno è giusto poiché io mi son ribellata la tua parola Dei ascoltate o popoli tutti e vedete il mio dolore le mie vergini e i miei giovani sono andati in cattività io ho chiamato i miei amanti ma essi m'hanno ingannata i miei sacerdoti e i miei anziani hanno esaltato l'anima nella città mentre cercavan del cibo per rianimarmi la vita O Eterno guarda che io sono in angoscia le mie viscere si commuovano il cuore mi si sconvolge in seno perché la mia ribellione è stata grave fuori la spada mi orba dei miei figlioli dentro sta la morte modon sospirare non vecchi mi consoli tutti i nemici hanno udita la mia sciagura e si rallegrano che tu l'abbia cagionata tu farai venire il giorno che hai annunziato e allora saranno con me venga dinanzi a te tutta la loro malvagità e trattali come hai trattato me a motivo di tutte le mie trasgressioni poiché i miei sospiri sono numerosi e il mio cuore è languente Lamentazioni capitolo secondo come mai ha il Signore nella sua ira coperto d'una nube oscura la figliuola di Sion egli ha gettato di cielo in terra la gloria di Israele e non s'è ricordato dello sgabello dei suoi piedi nel giorno della sua ira il Signore ha distrutto senza pietà tutte le dimore di Giacobbe nella sua ira ha rovesciato ha stese al suolo le fortezze della figliuola di Giuda ne ha profanato il regno e i capi nell'ardente sua ira ha infranta tutta la potenza di Israele ha ritirato la propria destra in presenza del nemico ha consumato Giacobbe a guisa di fuoco fiammeggiante che divora ad ogni intorno ha teso il suo arco come il nemico ha alzato la destra come un avversario ha trucidato tutti quelli che verano più cari a vedersi ha riversato il suo furore come un fuoco sulla tenda della figliuola di Sion il Signore è divenuto come un nemico ha divorato Israele ha divorato tutti i suoi palazzi ha distrutto le sue fortezze ha moltiplicato nella figliuola di Giuda i lamenti e i gemiti ha devastato la propria tenda come un giardino ha distrutto il luogo della sua raunanza l'Eterno ha fatto dimenticare in Sion le feste solenni e i sabati e l'indignazione della sua ira ha reietto i re e i sacerdoti il Signore ha preso in disgusto il suo altare ha aborrito il suo santuario ha dato i muri dei palazzi di Sion in mano dei nemici i quali hanno levato grida nella casa dell'Eterno come in un giorno di festa l'Eterno ha deciso di distruggere le mura della figliuola di Sion ha steso la corda non ha ritirato la mano prima di averle distrutti ha coperto di lutto bastioni e mura gli uni e le altre languiscono le sue porte sono affondate in terra egli ha distrutto spezzato le sue sbarre il suo re e i suoi capi sono fra le nazioni non v'è più legge ed anche i suoi profeti non ricevono più visioni dall'Eterno gli anziani della figliuola di Sion conseggono in terra in silenzio si sono gettati della polvere sul capo si sono scinti di sacchi le vergini di Gerusalemme curvano il capo al suolo e i miei occhi si consumano per il tanto lacrimare le mie viscere si commuovano il mio fegato si spande in terra per il disastro della figliuola del mio popolo al pensiero dei bambini e dei lattanti che venivano meno per le piazze della città essi chiedevano alle loro madri dov'è il pane dov'è il vino e intanto venivano meno come dei feriti a morte nelle piazze della città e rendevano l'anima sul seno delle madri loro che ti dirò a che ti paragonerò o figliuola di Gerusalemme che troverò di simile a te per consolarti o vergine figliuola di Gerusalemme perché la tua ferita è larga quanto è il mare chi ti potrà guarire i tuoi profeti hanno avuto per te visioni vane delusorie hanno messo a nudo la tua aniquizia per stornare da te la cattività le profezie che hanno fatto a tuo riguardo non erano che oracoli vani e sedutori tutti i passanti battono le mani al vederti fischiano e scuotano il loro capo a vedere la figliuola di Gerusalemme è questa la città che la gente chiamava una bellezza perfetta la gioia di tutta la terra tutti i tuoi nemici aprono larga la bocca contro di te fischiano digrignano i denti dicano l'abbiamo inghiottita sì questo è il giorno che aspettavamo ci siamo giunti lo vediamo l'eterno ha fatto quello che s'era proposto adempiuta la parola che aveva pronunziata fino dai giorni antichi ha distrutto senza pietà ha fatto di te la gioia del nemico ha esaltato la potenza dei tuoi avversari il loro cuore grida al Signore o mura della figliuola di Sion spandete le lacrime come un torrente giorno e notte non vi date requie non abbiam riposo le pupille dei vostri occhi levatevi gridate di notte al principio ed ogni vigilia spandete come l'acqua il cuor vostro davanti alla faccia del Signore levate le mani verso di Lui per la vita dei vostri bambini che vengono meno per la fame ai canti di tutte le strade guarda o eterno considera chi mai ha trattato così dalle donne hanno divorato il frutto delle loro viscere i bambini che accarezzavano sacerdoti e profeti sono stati massacrati nel santuario del Signore fanciulli e vecchi giacono per terra nelle vie e le mie vergini e i miei giovani sono caduti per la spada tu li hai uccisi nel dì della tua ira li hai massacrati senza pietà tu hai convocato come ad un giorno di festa solenne i miei terrori da tutte le parti e nel giorno dell'ira dell'eterno non vestato né scampato né fuggiasco quelli che avevo accarezzati allevati il mio nemico li ha consumati lamentazioni capitolo terzo io sono un uomo che ha veduto l'afflizione sotto la verga del suo furore egli m'ha condotto m'ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce sì contro di me di nuovo volge la sua mano tutto il giorno egli ha consumata la mia carne la mia pelle ha fiaccato le mie ossa ha costituito una cinta contro di me m'ha circondato d'amarezza e d'affanno m'ha fatto abitare in luoghi tenebrosi come quelli che sono morti da lungo tempo egli m'ha circondato d'un muro perché non esca m'ha caricato di pesanti catene anche quando grido e chiamo al soccorso egli chiude l'accesso della mia preghiera egli m'ha sbarrato la via di blocchi di pietra ha sconvolti i miei sentieri egli è stato per me come un orso inagguato come un leone in luoghi nascosti egli m'ha sviato dal mio cammino m'ha squarciato m'ha reso desolato ha tesso il suo arco e m'ha preso come mira delle sue frecce m'ha fatto penetrare nelle reni le saette del suo turcasso io sono diventato lo scherno di tutto il mio popolo la sua canzone di tutto il giorno egli m'ha saziato d'amarezza e m'ha beverato d'assenzio m'ha spezzato i denti con della ghiaia m'ha affondato nella cenere tu hai allontanato l'anima mia dalla pace io ho dimenticato il benessere io ho detto è sparita la mia fiducia non ho più speranza nell'eterno ricordati della mia afflizione della mia vita raminga dell'assenzio e dell'amarezza l'anima mia se ne ricorda del continuo e ne ha battuta dentro di me questo voglio richiamarmi alla mente per questo voglio sperare è una grazia dell'eterno che non siamo stati interamente distrutti poiché le sue compassioni non sono esaurite si rinnovano ogni mattina grande è la tua fedeltà l'eterno è la mia parte dice l'anima mia perciò spererò in lui l'eterno è buono per quelli che sperano in lui per l'anima che lo cerca buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'eterno buona cosa è per l'uomo portare il gioco nella sua giovinezza si segga egli solitario e stia in silenzio quando l'eterno glielo impone metta la sua bocca nella polvere forse ve ancora speranza porga la guancia a chi lo percuote si sa si pure di vituperio poiché il signore non ripudia in perpetuo ma se ne affligge altresì compassione secondo la moltitudine delle sue benignità giacché non è volentieri che gli umilia e affligge i figlioli degli uomini quando uno schiaccia sotto i piedi tutti i prigionieri della terra quando uno perverte il diritto di un uomo nel cospetto dell'altissimo quando si fa torto da alcuno nella sua causa il signore non lo vede egli chi mai dice una cosa che sa veri se il signore non l'ha comandata il male e il bene non procedono essi dalla bocca dell'altissimo poiché il vivente si ramaricherebbe ognuno si ramarichi del proprio peccato esaminino le nostre vie scrutiamole e torniamo all'eterno e leviamo insieme con le mani i nostri cuori al Dio nei cieli noi abbiamo peccato siamo stati ribelli e tu non hai perdonato tu ti sei avvolto nella tua ira e ci hai inseguiti tu hai ucciso senza pietà ti sei avvolto in una nuvola perché la preghiera non potesse passare tu hai fatto di noi delle spazzature dei rifiuti in mezzo ai popoli tutti i nostri nemici aprono larga la bocca contro di noi ci sono toccati il terrore la fossa la desolazione e la rovina i miei occhi si sciolgono in rivi d'acqua a motivo della rovina della figliuola del mio popolo l'occhio mio si scioglie in lacrime senza posa senza intermittenza finché dal cielo l'eterno non riguardi e non veda il nostro stato l'occhio mio m'affanna l'anima a motivo di tutte le figliuole della mia città quelli che mi son nemici senza cagione m'han dato la caccia come a un uccello m'hanno annientato la vita nella fossa m'hanno gettato delle pietre addosso le acque salivano fin sopra al mio capo ed io dicevo è finita per me io ho invocato il tuo nome o eterno dal fondo della fossa tu hai udito la mia voce non nascondere il tuo orecchio al mio sospiro al mio grido nel giorno che io t'ho invocato ti sei avvicinato tu hai detto non temere o signore tu hai difesa la causa dell'anima mia tu hai redento la mia vita o eterno tu vedi il torto che mi hai fatto giudica tu la mia causa tu vedi tutto il loro rancore tutte le loro macchinazioni contro di me tu odi il loro oltraggio eterno tutte le loro macchinazioni contro di me il linguaggio di quelli che si levano contro di me quelli che meditano contro di me tutto il giorno guarda quando si seguono quando salsano io sono la loro canzone tu li retrubirai o eterno secondo l'opera delle loro mani darai loro induramento di cuore la tua maledizione li inseguirai nella tua ira e li sterminerai di sotto i cieli dell'eterno lamentazioni capitolo quarto come mai si è oscurato l'oro si è alterato l'oro più puro come mai le pietre del santuario si trovano sparse qua e là ai canti di tutte le strade i nobili figliuoli di Sion pregiati al pari dell'oro fino come mai sono reputati quali vasi di terra opera di mani di vasaio perfino gli sciacalli porgano le mammelle allattano i loro piccini la figliuola del mio popolo è diventata crudele come gli struzzi del deserto la lingua dell'attante gli s'attacca al palato per la sede e i bambini chiedono del pane e non vecchi gliele dia quelli che si nutrivano di scibi delicati cadono di media per le strade quelli che erano allevati nella porpora abbracciano il letamaio il castigo dell'iniquità della figliuola del mio popolo è maggiore di quello del peccato di Sodoma che fu distrutta in un attimo senza che mano d'uomo la colpisse i suoi principi erano più splendenti della neve più bianchi del latte avevano il corpo più vermiglio del corallo il loro volto era uno zafiro il loro aspetto è ora più cupo del nero non si riconoscono più per le vie la loro pelle è attaccata alle ossa e secca è diventata come un legno più felici sono stati gli uccisi di spada di quelli che muoiono di fame perché questi deperiscono estenuati per mancanza dei prodotti dei campi delle donne pursi pietose hanno con le loro mani fatto cuocere i loro bambini che hanno servito loro di cibo nella rovina della figliuola del mio popolo l'Eterno ha esaurito il suo furore ha riversato all'ardente sua ira ha acceso in Sion un fuoco che l'ha divorato le fondamenta nei re della terra né alcun abitante del mondo avrebbero mai creduto che l'avversario il nemico sarebbe entrato nelle porte di Gerusalemme così è avvenuto per via dei peccati dei suoi profeti dell'iniquità dei suoi sacerdoti che hanno sparso nel mezzo di lei il sangue dei giusti essi erravano come ciechi per le strade lordati di sangue in guisa che non si potevano toccare le loro vesti fatevi in là un impuro si gridava a loro apparire fatevi in là fatevi in là non lo toccate quando fuggiva erano qua e là e si diceva fra le nazioni non restiamo di più la faccia dell'eterno li ha dispersi egli non vogge più verso loro il suo sguardo non si è portato rispetto ai sacerdoti e non si è avuto pietà dei vecchi e non si commuovano ancora gli occhi in cerca di un soccorso aspettato in vano dai nostri posti di vedetta scrutavamo la venuta di una nazione che poteva salvarci si spiavano i nostri passi impedendoci di camminare per le nostre piazze la nostra fine è prossima dicevamo i nostri giorni sono contati la nostra fine è giunta i nostri persecutori sono stati più leggeri delle aquile dei cieli ci hanno dato la caccia su per le montagne ci hanno teso l'agguato nel deserto colui che ci fa respirare l'unto dell'eterno è stato preso nelle loro fosse egli del quale dicevano alla sua ombra noi vivremo fra le nazioni rallegrati gioisci o figliuola dedon che dimori nel paese di Uzz anche fino a te passerà la coppa tu ti nebrerai e ti nuderai il castigo della tua iniquità è finito o figliuola di Sion egli non ti manderà più in cattività egli punirà l'iniquità tua o figliuola di Edom mette allo scoperto i tuoi peccati Lamentazioni capitolo quinto ricordati eterno di quello che è avvenuto guarda e vedi il nostro proprio la nostra eredità è passata a degli stranieri le nostre case a degli stranei noi siamo diventati orfani senza padre le nostre madri sono come vedove noi beviamo la nostra acqua a prezzo di denaro le nostre legne ci vengono a pagamento col collo carico noi siamo inseguiti siamo spossati non abbiamo requie abbiamo teso la mano verso l'Egitto e verso la Siria per saziarci di pane i nostri padri hanno peccato e non sono più e noi portiamo la pena delle loro iniquità degli schiavi dominano su noi e non vecchici liberi dalle loro mani noi raccogliamo il nostro pane col rischio della nostra vita affrontando la spada del deserto la nostra pelle brucia come un forno per l'arsura della fame essi hanno disonorato le donne di Sion le vergine nella città di Giuda i capi sono stati impiccati dalle loro mani la persona dei vecchi non è stata rispettata i giovani han portato le maschine i giovanetti han vacillato sotto il carico della legna i vecchi hanno abbandonato la porta i giovani la musica dei loro strumenti la gioia dei nostri cuori è cessata le nostre danze sono mutate in lutto la corona ci è caduta dal capo guai a noi poiché abbiamo peccato per questo lango il nostro cuore per questo s'oscurano i nostri occhi perché il monte di Sion è desolato e vi passeggian le volpi ma tuo eterno regni in perpetuo il tuo trono sussiste ed età in età perché ci dimenticheresti tu in perpetuo e ci abbandoneresti per un lungo tempo facci tornare a te o eterno e noi torneremo ridonaci dei giorni come quelli d'un tempo che è ora tu ci hai veramente reietti e ti sei grandemente adirato contro di noi Ezechiele capitolo primo ora venne l'anno trentesimo il quinto giorno del quarto mese che essendo presso al fiume che bar fra quelli che erano stati menati in cattività i cieli si aprirono e io ebbi delle visioni divine e il quinto giorno del mese era il quintanno della cattività del re Joachim la parola dell'eterno fu espressamente rivolta al sacerdote Ezechiele figliuolo di Busi nel paese dei caldei presso al fiume che bar e la mano dell'eterno fu quivi sopra di lui io guardai ed ecco venire dal settentrione un vento di tempesta una grossa nuvola con un globo di fuoco che spandeva tutto all'intorno d'essa uno splendore e nel centro di quel fuoco si vedeva come del rame sfavillante in mezzo al fuoco nel centro del fuoco appariva la forma di quattro esseri viventi e questo era l'aspetto loro avevano sembianza umana ognuno d'essi aveva quattro facce e ognuno quattro ali i loro piedi erano diritti e la pianta dei loro piedi era come la pianta del piede di un vitello e sfavillavano come il rame terzo e avevano delle mani d'un uomo sotto le ali ai loro quattro lati e tutti e quattri avevano le loro facce e le loro ali le loro ali si univano l'una all'altra camminando non si voltavano ognuno camminava dritto dinanzi a sé quanto all'aspetto delle loro facce essi avevano tutti una faccia d'uomo tutti e quattro una faccia di leone a destra tutti e quattro una faccia di bue a sinistra e tutti e quattro una faccia d'aquila le loro facce e le loro ali erano separate nella parte superiore e ognuno aveva due ali che si univano a quelle dell'altro e due che coprivano il loro corpo camminavano ognuno dritto davanti a sé e andavano dove lo spirito li faceva andare e camminando non si voltavano quanto all'aspetto degli esseri viventi esso era come di carboni ardenti come di fiaccole quel fuoco circolava in mezzo agli esseri viventi era un fuoco sfavillante e dal fuoco uscivano dei lampi e gli esseri viventi correvano in tutti i sensi simile al fulmine or come io stavo guardando gli esseri viventi ecco una ruota in terra presso a ciascun dessi verso le loro quattro facce l'aspetto delle ruote e la loro forma era come l'aspetto del crisolito e tutte e quattro si somigliavano il loro aspetto e la loro forma erano quelli di una ruota che fosse attraversata da un'altra ruota quando si muovevano andavano tutti e quattro dal proprio lato e andando non si voltavano quanto ai loro cerchi essi erano alti e formidabili e i cerchi di tutte e quattro erano pieni d'occhi d'ogni intorno quando gli esseri viventi camminavano le ruote si muovevano al lato a loro e quando gli esseri viventi s'alzavano su da terra s'alzavano anche le ruote e dovunque lo spirito voleva andare andavano anch'essi e le ruote s'alzavano al lato a quelli perché lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote quando quelli camminavano anche le ruote si muovevano quando quelli si fermavano anche queste si fermavano e quando quelli s'alzavano su dalla terra anche queste s'alzavano al lato d'essi perché lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote sopra le teste degli esseri viventi c'era come una distesa di cielo di colore simile al cristallo d'ammirabile splendore e si spandeva su in alto sopra alle loro teste e sotto la distesa si dirizzavano le loro ali l'una verso l'altra e ne avevano ciascuno due che coprivano il loro corpo e quando essi camminavano io sentiva il rumore delle loro ali come il rumore delle grandi acque come la voce dell'onnipotente un rumore di gran tumulto come il rumore di un accampamento quando si fermavano ed abbassavano le loro ali e sudiva un gran rumore che veniva dall'alto della distesa che era sopra le loro teste e al di sopra della distesa che stava sopra le loro teste c'era come una pietra di zaffiro che pareva un trono e su questa specie di trono appariva come la figura di un uomo che vi stava assiso sopra su in alto vedi pure come del rame terzo come del fuoco che lo circondava da ogni intorno dalla sembianza e dai suoi fianchi in su e dalla sembianza dei suoi fianchi in giù vedi come del fuoco come uno splendore tutto attorno a lui qual è l'aspetto dell'arco che è nella nuvola in un giorno di pioggia tale era l'aspetto di quello splendore che lo circondava era un'apparizione dell'immagine della gloria dell'eterno a questa vista caddi sulla mia faccia e udì la voce di uno che parlava Ezechiele capitolo secondo e mi disse figlio al duomo rizzati in piedi ed io ti parlerò e come egli mi parlava lo spirito entrò in me e mi fece rizzare in piedi e io udì colui che mi parlava egli mi disse figlio al duomo io ti mando ai figlioli di Israele a nazioni ribelli che si sono ribellate a me essi e i loro padri si sono rivoltati contro di me fino a questo giorno a questi figlioli dalla faccia dura e dal cuore ostinato io ti mando e tu dirai loro così parla il Signore l'Eterno e sia che t'ascoltino o non t'ascoltino giacché è una casa ribelle essi sapranno che v'è un profeta in mezzo a loro e tu figlio al duomo non aver paura di loro né delle loro parole giacché tu stai con le ortiche con le spine e abiti fra gli scorpioni non aver paura delle loro parole non ti sgomentare davanti a loro poiché sono una casa ribelle ma tu riferirai loro le mie parole sia che t'ascoltino o non t'ascoltino perché sono ribelli e tu figlio al duomo ascolta ciò che io ti dico non essere ribelle come ribelle questa casa apri la bocca e mangia ciò che ti do ed io guardai ed ecco una mano stava tesa verso di me la quale teneva il rotolo d'un libro ed egli lo spiegò davanti a me era scritto di dentro e di fuori e conteneva delle lamentazioni dei gemiti e dei guai Ezechiele capitolo terzo ed egli mi disse figlio al duomo mangia che tu trovi mangia questo rotolo e va e parla alla casa di Israele io aprì la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo e mi disse figlio al duomo nutriti il ventre e riempiti le viscere di questo rotolo che ti do ed io lo mangiai e mi fu dolce in bocca come del miele ed egli mi disse figlio al duomo va recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole poiché tu sei mandato non a un popolo dal parlare oscuro e dalla lingua non intelligibile ma alla casa di Israele non a molti popoli dal parlare oscuro e dalla lingua non intelligibile di cui tu non intenda le parole certo se io ti mandassi a loro essi ti darebbero ascolto ma la casa di Israele non ti vorrà ascoltare perché non vogliono ascoltare me giacché tutta la casa di Israele ha la fronte dura e il cuore ostinato ecco io indurrò la faccia perché tu lo ponga alla faccia loro indurrò la tua fronte perché tu lo ponga alla fronte loro io rendo la tua fronte come un diamante più dura della selce non li temere non ti sgomentare davanti a loro perché sono una casa ribelle poi mi disse figlio il duomo ricevi nel cuore tuo tutte le parole che io ti dirò e ascoltale con le tue orecchie e vada ai figliuoli del tuo popolo che sono in cattività parla loro e di loro così parla il Signore l'Eterno sia che ti ascoltino o non ti ascoltino e lo Spirito mi levò in alto e udì dietro a me il suono di un gran fragore che diceva benedetta sia la gloria dell'Eterno dalla sua dimora e udì pure il rumore delle ali degli esseri viventi che battevano l'una contro l'altra il rumore delle ruote al lato d'esse e il suono di un gran fragore e lo Spirito mi levò in alto e mi portò via ed io andai pieno d'amarezza nello sdegno del mio Spirito e la mano dell'Eterno era forte su me e giunsi da quelli che erano in cattività a Ter-Abib presso il fiume Chebar e mi fermai dove essi dimoravano e dimorai quivi sette giorni mesto e silenzioso in mezzo a loro e in capo a sette giorni la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il duomo io t'ho stabilito come una sentinella per la casa di Israele e quando tu udrai dalla mia bocca una parola tu li avvertirai da parte mia quando io dirò all'empio certo morrai se tu non ti avverti e non parli per avvertire quell'empio e di abbandonare la sua via malvagia e salvarli così la vita quell'empio morrà per la sua iniquità ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritrae dalla sua impietà e dalla sua via malvagia egli morrà per la sua iniquità ma tu avrai salva l'anima tua e quando un giusto si ritrae dalla sua giustizia e commette l'iniquità se io gli pongo davanti una qualche occasione di caduta egli morrà perché tu non l'avrai avvertito morrà per il suo peccato e le cose giuste che avrà fatte non saranno più ricordate ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano però se tu avverti quel giusto perché non pecchi e non pecca egli certamente vivrà perché è stato avvertito e tu avrai salva l'anima tua e la mano dell'eterno fu quivi sopra me ed egli mi disse levati va nella pianura e quivi io parlerò teco io dunque mi levai e uscii nella pianura ed ecco che qui vi stava la gloria dell'eterno gloria simile a quella che avevo veduta presso il fiume che bar e caddi sulla mia faccia lo spirito entrò in me e mi fece rizzare in piedi e l'eterno mi parlò e mi disse va chiuditi in casa tua e a te figlio il duomo ecco ti si metteranno addosso delle corde con esse ti si legherà e tu non andrai in mezzo a loro io farò che la lingua ti s'attacchi al palato perché tu rimanga muto e tu non possa essere per essi un censore perché sono una casa ribelle ma quando io ti parlerò ti aprirò la bocca e tu dirai loro così parla il signore l'eterno chi ascolta ascolti chi non vuole ascoltare non ascolti poiché sono una casa ribelle Ezechiele capitolo quarto e tu figlio il duomo prenditi un mattone mettitelo davanti e disegna vi sopra una città Gerusalemme cingila d'assedio costruisci contro di lei una torre fa contro di lei de bastioni circondola di vari accampamenti e disponi contro di lei d'ogni intorno degli arieti prenditi poi una piastra di ferro e collocola come un muro di ferro tra te e la città volta la tua faccia contro di lei sia e la sediata e tu cingila d'assedio questo sarà un segno per la casa di israele poi sdraiati sul tuo lato sinistro e metti su questo lato l'iniquità della casa di israele e per il numero di giorni che starai sdraiato su quel lato tu porterai la loro iniquità io ti conterò gli anni della loro iniquità in un numero pari a quello di quei giorni trecento novanta giorni tu porterai così l'iniquità della casa di israele e quando avrai compiuti quei giorni ti sdraerai di nuovo sul tuo lato destro e porterai l'iniquità della casa di giuda per quaranta giorni ti impongo un giorno per ogni anno tu volgerai la tua faccia e il tuo braccio nudo verso l'assedio di gerusalemme profeterai contro di lei ed ecco io ti metterò addosso delle corde e tu non potrai voltarti da un lato sull'altro finché non abbia compiuti i giorni del tuo assedio prenditi anche del frumento dell'orzo delle fave delle lenticchie del miglio del farro metteli in un vaso fattene del pane durante tutto il tempo che starai sdraiato sul tuo lato ne mangerai per trecento novanta giorni il cibo che mangerai sarà del peso di venti cicli per giorno lo mangerai di tempo in tempo berrai pure dell'acqua misurata la sesta parte d'un hin la berrai di tempo in tempo mangerai le focacce d'orso che cuocerai in loro presenza con escrementi d'uomo e l'eterno disse così i figlioli di israele mangeranno il loro pane contaminato fra le nazioni dove io li cacerò allora io dissi ahimè signore eterno ecco l'anima mia non è stata contaminata dalla mia fanciullezza e ora non ho mai mangiato carne di bestia morta da sé o sbranata enorme ma entrate in bocca alcuna carne infetta ed egli mi disse guarda io ti do dello sterco bovino invece di escrementi d'uomo sopra quello cuocerai il tuo pane poi mi disse figliolo d'uomo io farò mancar del tutto il sostegno del pane Gerusalemme essi mangeranno il pane appeso e con angoscia e berranno l'acqua misurata e con costernazione poiché mancheranno di pane ed acqua e saranno costernati tutti quanti e si struggeranno a motivo della loro iniquità Ezechiele capitolo quinto e tu figlio d'uomo prenditi un ferro tagliente prenditi un rasoio da barbiere e fattelo passare sul capo e sulla barba poi prenditi una bilancia da pesare e dividi i peli che avrai tagliati bruciane una terza parte col fuoco in mezzo alla città quando i giorni dell'assedio saranno compiuti poi prendine un'altra terza parte e percuotila con la spada attorno alla città e disperdi al vento l'ultima terza parte dietro alla quale io sguainerò la spada e di questa prendi una piccola quantità e legala ai lembi della tua veste e di questa prendi ancora una parte gettala nel fuoco e bruciala nel fuoco di lì uscirà un fuoco contro tutta la casa di Israele così parla il Signore l'Eterno ecco Gerusalemme io l'avevo posta in mezzo alle nazioni e agli altri paesi che la circondavano ed ella per darsi all'impietà si è ribellata alle mie leggi più delle nazioni e alle mie prescrizioni più dei paesi che la circondano perché ha sprezzato le mie leggi e non ha camminato seguendo le mie prescrizioni perciò così parla il Signore l'Eterno poiché voi siete stati più insubordinati delle nazioni che vi circondavano in quanto non avete camminato seguendo le mie prescrizioni e non avete messo ad effetto le mie leggi e non avete neppure agito seguendo le leggi delle nazioni che vi circondano così parla il Signore l'Eterno eccomi vengo io da te ed eseguirò in mezzo a te i miei giudizi nel cospetto delle nazioni e farò a te quello che non ho mai fatto e che non farò mai più così a motivo di tutte le tue abominazioni perciò in mezzo a te dei padri mangeranno i loro figliuoli e dei figliuoli mangeranno i loro padri ed io eseguirò su di te dei giudizi e disperderò a tutti i venti quel che rimarrà di te perciò com'è vero che io vivo dice il Signore l'Eterno perché tu hai contaminato il mio santuario con le tue infami e con tutte le tue abominazioni anch'io tiraderò l'occhio mio non ti risparmierà nessuno e anch'io non avrò pietà una terza parte di te morrà di peste e sarà consumata dalla fame in mezzo a te una terza parte cadrà per la spada attorno a te e ne disperderò a tutti i venti l'altra terza parte e sguainerò contro di essa la mia spada così si sfogherà la mia ira e io soddisfarrò su loro il mio furore e sarò pago ed essi conesceranno che io l'Eterno ho parlato nella mia gelosia quando avrò sfogato su loro il mio furore e farò di te sotto gli occhi di tutti i passanti una desolazione il vituperio delle nazioni che ti circondano e il tuo proprio e la tua ignominia saranno un ammaestramente e un oggetto di stupore per le nazioni che ti circondano quando io avrò eseguito su di te i miei giudizi con ira con furore con indignati castighi sono io l'Eterno che parlo quando avrò scoccato contro di loro i letali dardi della fame a portatori di distruzione che io tirerò per distruggervi quando avrò aggravata su voi la fame e vi avrò fatto venire meno il sostegno del pane quando avrò mandato contro di voi la fame le male bestie che ti priveranno dei figlioli quando la peste e il sangue saranno passati per mezzo a te quando io avrò fatto venire su di te la spada io l'Eterno sono quegli che parla Ezechiele capitolo sesto la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio d'uomo volgi la tua faccia verso i monti di Israele e profetizza contro di loro o monti di Israele ascoltate la parola del Signore dell'Eterno così parla il Signore l'Eterno ai monti e ai colli e ai burroni e alle valli eccomi io fo venire su di voi la spada e distruggerò i vostri alti luoghi i vostri altari saranno desolati le vostre colonne solari saranno infrante e io farò cadere i vostri uccisi davanti ai vostri idoli e metterò i cadaveri dei figlioli di Israele davanti ai loro idoli e spargerò le vostre ossa attorno ai vostri altari dovunque abitate le città saranno deserte e gli altri luoghi desolati affinché i vostri altari siano deserti e desolati i vostri idoli siano infranti e scompaiano le vostre colonne solari siano abbattute e tutte le vostre opere siano spezzate via i morti occhi che che commesso adulterio con i loro idoli e avranno disgusto di loro stessi per i mali che hanno commessi con tutte le loro abominazioni e conosceranno che io sono l'Eterno e che non invano li ho minacciati di far loro questo male così parla il Signore l'Eterno batti le mani batti il piede di ahimè a motivo di tutte le sceleratezze di tutte le abominazioni della casa di Israele che cadrà per la spada per la fame per la peste chi sarà lontano morirà di peste e chi sarà vicino cadrà per la spada e chi sarà rimasto e sarà assediato perirà di fame ed io sfogherò così il mio furrore su di loro e voi conoscerete che io sono l'Eterno quando i loro morti saranno in mezzo ai loro idoli intorno ai loro altari sopra ogni alto colle su tutte le vette dei monti sotto ogni albero verdeggiante sotto ogni querce dal folto fogliame là dove essi offrivano profumi d'or soave a tutti i loro idoli ed io stenderò su di loro la mia mano e renderò il paese più solitario e desolato del deserto di dibla dovunque essi abitano e conosceranno che io sono l'Eterno Ezechiele capitolo settimo e la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini e tu figlio d'uomo così parla il Signore l'Eterno riguardo al paese di Israele la fine la fine viene sulle quattro estremità del paese ora ti sovrasta la fine e io manderò contro di te la mia ira ti giudicherò secondo la tua condotta e ti farò ricadere addosso tutte le tue abominazioni e l'occhio mio non ti risparmierà io sarò senza pietà ti farò ricadere addosso la tua condotta e le tue abominazioni saranno in mezzo a te e voi conoscerete che io sono l'Eterno così parla il Signore l'Eterno una calamità ecco viene una calamità la fine viene viene la fine e la si desta per te ecco e la viene viene la tua volta o abitante del paese il tempo viene il giorno s'avvicina giorno di tumulto e non di grida di gioia su per i monti ora in breve io spanderò su di te il mio furore sfogherò su di te la mia ira ti giudicherò secondo la tua condotta e ti farò ricadere addosso tutte le tue abominazioni e l'occhio mio non ti risparmierà io non avrò pietà ti farò ricadere addosso la tua condotta le tue abominazioni saranno in mezzo a te e voi conoscerete che io l'eterno sono quelli che colpisce ecco il giorno ecco ci viene giunge la tua volta la verga è fiorita l'orgoglio è sbocciato la violenza si eleva divien la verga dell'impietà nulla più rimandessi della loro folla tumultuosa del loro fracasso nulla della loro magnificenza giunge il tempo il giorno si avvicina chi compra non si rallegri chi vende non si doiga perché un'ira ardente sovrasta a tutta la loro moltitudine poiché chi vende non tornerà in possesso di ciò che avrà venduto anche se fosse tuttora in vita poiché la visione contro tutta la loro moltitudine non sarà rivocata e nessuno potrà col suo peccato mantenere la propria vita suona la tromba tutto è pronto ma nessuno va alla battaglia poiché l'ardore della mia ira sovrasta a tutta la loro moltitudine di fuori la spada di dentro la peste la fame chi è nei campi morrà per la spada chi è in città sarà divorato dalla fame e dalla peste e quelli di loro che riusciranno a scampare staranno su per i monti come delle colombe delle valli tutti quanti gemendo ognuno per la propria iniquità tutte le mani diverranno fiacche tutte le ginocchia si scioglieranno in acqua e si cingeranno di sacchi e lo spavento sarà la loro coperta la vergogna sarà su tutti i volti e avranno tutti il capo rasato e getteranno il loro argento per le strade e il loro oro sarà per essi un'immondezza il loro argento e il loro oro non li potranno salvare nel giorno del furore dell'eterno non potranno saziare la loro fame né empire le loro viscere poiché furono quelli la pietra d'intoppo per cui cadero nella loro iniquità la bellezza dei loro ornamenti era per loro fonte d'orgoglio e ne han fatto delle immagini delle loro abominazioni e delle loro divinità esacrande perciò io farò che siano per essi una cosa immonda e abbandonerò tutto come preda in man degli stranieri e come bottino in man degli empi della terra che lo profaneranno e stornerò la mia faccia da loro e nemici profaneranno il mio intimo santuario dei furibondi entreranno in gerusalemme e la profaneranno prepara le catene poiché questo paese è pieno di delitti e di sangue e questa città è piena di violenza ed io farò venire le più malvagie delle nazioni che si impossesseranno delle loro case farò venire me con la superbia dei potenti e i loro santuari saranno profanati viene la rovina essi cercheranno la pace ma non ve ne sarà alcuna verrà calamità su calamità allarme sopra l'arme essi chiederanno delle visioni al profeta e la legge mancherà ai sacerdoti e il consiglio agli anziani e il re farà cordoglio e il principe si rivestirà di desolazioni e le mani del popolo del paese tremeranno di spavento io li tratterò secondo la loro condotta e li giudicherò secondo che meritano e conosceranno che io sono l'eterno ezechiele capitolo ottavo e il sesto anno il quinto giorno del sesto mese avvenne che mentre io stava seduto in casa mia e gli anziani di giuda erano seduti in mia presenza la mano del signore dell'eterno cadde qui vi su me io guardai ed ecco una figura d'uomo che aveva l'aspetto del fuoco dai fianchi in giù pareva di fuoco e dai fianchi in su aveva un aspetto risplendente come di terzo rame egli stese una forma di mano e mi prese per una ciocca dei miei capelli e lo spirito mi sollevò fra terra e cielo e mi trasportò in visioni divine a Gerusalemme all'ingresso della porta interna che guarda verso il setentrione dove era posto l'idolo della gelosia che eccita a gelosia ed ecco che qui vi era la gloria dell'eterno dell'iddio di Israele come nella visione che aveva avveduta nella valle ed egli mi disse figlio d'uomo alza ora gli occhi verso il setentrione ed io alzai gli occhi verso il setentrione ed ecco che al setentrione della porta dell'altare all'ingresso stava quell'idolo della gelosia ed egli mi disse figlio d'uomo vedi tu quello che costoro fanno le grandi abominazioni che la casa di Israele commette qui perché io mi allontani dal mio santuario ma tu vedrai ancora delle più grandi abominazioni ed egli mi condusse all'ingresso del cortile io guardai ed ecco un buco nel muro allora egli mi disse figlio d'uomo adesso fora il muro e quando io ebbi forato il muro ecco una porta ed egli mi disse entra e guarda le scellerate abominazioni che costoro commettano qui io entrai e guardai ed ecco ogni sorta di figure di rettili e di besti abominevoli e tutti gli idoli della casa di Israele dipinti sul muro attorno ad esso e settanta fra gli anziani della casa di Israele in mezzo ai quali era già Asania figliolo di Shaphan stavano in piede davanti a quelli avendo ciascuno un turibolo in mano dal quale saliva il profumo d'una nuvola di incenso ed egli mi disse figliolo duomo tu hai visto quello che gli anziani della casa di Israele fanno nelle tenebre e ciascuno nelle camere riservate alle sue immagini poiché dicono l'Eterno non ci vede l'Eterno ha abbandonato il paese poi mi disse tu vedrai ancora altre più grandi abominazioni che costoro commettano e mi menò all'ingresso della porta della casa dell'Eterno che è verso il setentrione ed ecco qui vi sedevano delle donne che piangevano Tamus ed egli mi disse hai tu visto figlio il duomo tu vedrai ancora delle abominazioni più grandi di queste e mi menò nel cortile della casa dell'Eterno ed ecco all'ingresso del tempio dell'Eterno fra il portico e l'altare circa venticinque uomini che voltavano le spalle alla casa dell'Eterno e la faccia verso l'Oriente e si prostravano verso l'Oriente davanti al sole ed egli mi disse hai visto figlio il duomo e gli è poca cosa per la casa di giuda di commettere le abominazioni che commette qui perché abbia anche a riempire il paese di violenza e a tornar sempre a provocarmi a dira ed ecco che s'accostano il ramo al e anch'io agirò come furore d'occhio mio non li risparmierà ed io non avrò pietà e per quanto gridino ad altavoce ai miei orecchi io non darò loro ascolto Ezechiele capitolo nono poi gridò ad altavoce ai miei orecchi dicendo fate accostare quelli che debbano punire la città e ciascuno abbia in mano la sua arma di distruzione ed ecco venire dal lato della porta superiore che guarda verso settentrione sei uomini ognuno dei quali aveva in mano la sua arma di distruzione e in mezzo allora stava un uomo vestito di lino che aveva un corno da scrivano alla cintura e vennero a mettersi a fianco dell'altare di rame e la gloria del Dio di Israele si alzò di su il cherubino sul quale stava e andò verso la soglia della casa e l'Eterno chiamò l'uomo vestito di lino che aveva il corno da scrivano alla cintura e gli disse passa in mezzo alla città in mezzo a Gerusalemme e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e che gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo di lei e agli altri disse in modo che iuntesi passate per la città dietro a lui e colpite il vostro occhio non risparmi alcuno e siate senza pietà uccidete sterminate vecchi giovani vergini bambini e donne ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno e cominciate dal mio santuario ed essi cominciarono da quegli anziani che stavano davanti alla casa e poi gli disse loro contaminate la casa ed empite di morti cortili uscite e quelli uscirono e andarono colpendo per la città e come si colpivano ed io ero rimasto solo caddi sulla mia faccia e gridai ahimè signore eterno distruggerai tutto ciò che rimane di israele riversando il tuo furore su gerusalemme ed egli mi rispose l'iniquità della casa di israele di giuda e oltremondo grande il paese pieno di sangue la città è piena di prevaricazioni poiché dicono l'eterno abbandonato il paese l'eterno non vede nulla e perciò anche l'occhio mio non risparmierà nessuno io non avrò pietà e farò ricadere sul loro capo la loro condotta ed ecco l'uomo vestito di lino che aveva il corno dello scrivono alla cintura venne a fare il suo rapporto dicendo ho fatto come tu mai comandato Ezechiele capitolo decimo io guardai ed ecco sulla distesa sopra il capo dei cherubini vera come una pietra di zaffiro si vedeva come una specie di trono che stava sopra loro e l'Eterno parlò all'uomo vestito di lino e disse va fra le ruote sotto i cherubini empiti le mani di carboni ardenti tolti di fra i cherubini e spargeli sulle città ed egli vandò in mia presenza ora i cherubini stavano al lato destro della casa quando l'uomo entrò là e la nuvola riempì il cortile interno e la gloria dell'Eterno s'alzò di su i cherubini muovendo verso la soglia della casa e la casa fu ripiena della nuvola e il cortile fu ripieno dello splendore della gloria dell'Eterno e il rumore delle ali dei cherubini si udì fino al cortile esterno simile l'uomo vestito di lino l'ordine di prender del fuoco di fra le ruote che sono tra i cherubini quegli venne a fermarsi presso una delle ruote e uno dei cherubini stesse la mano fra gli altri cherubini verso il fuoco che era fra i cherubini ne prese e lo mise nelle mani dell'uomo vestito di lino che lo ricevette ed egli uscì or ai cherubini si vedeva una forma di mano d'uomo sotto le ali e io guardai ed ecco quattro ruote presso i cherubini una ruota presso ogni cherubino e le ruote avevano l'aspetto d'una pietra di crisolito e a vederle tutte e quattro avevano una medesima forma come se una ruota passasse attraverso l'altra quando si muovevano si muovevano dai loro quattro lati e muovendosi non si voltavano ma seguivano la direzione del luogo verso il quale guardava il capo e andavano e non si voltavano e tutto il corpo dei cherubini i loro dossi le loro mani le loro ali come pure le ruote le ruote di quelli e quattro erano pieni d'occhi tutti intorno e udì che c'era la faccia di cherubino la seconda faccia una faccia d'uomo la terza una faccia di leone la quarta una faccia d'aquila e i cherubini si alzarono erano gli stessi esseri viventi che avevo veduti presso il fiume che bar e quando i cherubini si muovevano anche le ruote si muovevano a loro e quando i cherubini spiegavano le ali per alzarsi da terra anche le ruote non deviavano da presso a loro e quando quelli si fermavano anche queste si fermavano quando quelli si innalzavano anche quelle si innalzavano con loro perché lo spirito degli esseri viventi era in esse e la gloria dell' eterno si partì di sulla soglia della casa e si fermò sui cherubini e i cherubini allato a loro si fermarono all'ingresso della porta orientale della casa dell' eterno e la gloria dell' dio di israele stava sopra di loro su in alto erano gli stessi esseri viventi che avevo veduto sotto l' dio di israele presso il fiume che bar e riconobbi che erano i cherubini ognuno d'essi aveva quattro facce ognuno quattro ali e sotto le loro ali appariva la forma di mani d'uomo e quando all'aspetto delle loro facce erano le facce che avevano veduto presso il fiume che bar erano gli stessi aspetti i medesimi cherubini ognuno andava dritto davanti a sé Ezechiele capitolo undicesimo poi lo spirito mi levò in alto e mi menò alla porta orientale della casa dell'Eterno che guarda verso Levante ed ecco all'ingresso della porta venticinque uomini e in mezzo ad esso vidi Iazzania figliolo di Azur e Pelatia figliolo di Benahia capi del popolo e l'Eterno mi disse figliolo d'uomo questi sono gli uomini che meditano l'iniquità e danno cattivi consigli in questa città essi dicono il tempo non è così vicino edifichiamo pur case questa città è la pentola e noi siamo la carne perciò profetizza contro di loro profetizza figliolo duomo e lo spirito dell'Eterno cade su di me e mi disse di così parla l'Eterno voi parlate a quel modo casa di Israele e io conosco le cose che vi passano per la mente voi avete moltiplicato i vostri omicidi in questa città e ne avete riempite ed uccisi le strade perciò così parla il Signore l'Eterno i vostri morti che avete stesi in mezzo a questa città sono la carne e la città è la pentola ma voi ne sarete tratti fuori voi avete paura della spada e io farò venire su di voi la spada dice il Signore l'Eterno io vi trarrò fuori dalla città e vi darò in mano di stranieri ed eseguirò su di voi i miei giudizi voi cadrete per la spada io vi giudicherò sulle frontiere di Israele e voi conoscerete che io sono l'Eterno questa città non sarà per voi una pentola e voi non sarete in mezzo alle la carne io vi giudicherò sulle frontiere di Israele e voi conoscerete che io sono l'Eterno del quale non avete eseguito le prescrizioni né messe in pratica le leggi ma avete agito secondo le leggi delle nazioni che vi circondano ora avvenne che come io profetavo a Perattia figliolo di Benaia e li morì e io mi gettai con la faccia a terra e gridai d'alta voce ahimè Signore Eterno farai tu una completa distruzione di quelli che e la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlioli d'uomo i tuoi fratelli i tuoi fratelli gli uomini del tuo parentato e tutta quanta la cassa di Israele sono quelli ai quali gli abitanti di Gerusalemme hanno detto statevene lontani dall'Eterno a noi è dato il possesso del paese perciò di così parla il Signore l'Eterno benché io li abbia allontanati fra le nazioni e li abbia dispersi fra i paesi io sarò per loro per qualche tempo un santuario nei paesi dove sono perciò di così parla il Signore l'Eterno io vi raccoglierò di fra i popoli e vi radunerò dai paesi dove siete stati dispersi e vi aderò il suolo di Israele e quelli vi verranno e ne torranno via tutte le cose esacrande e tutte le abominazioni e io darò loro un medesimo cuore metterò dentro di loro un nuovo spirito torrò via dalla loro carne il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne perché camminino secondo le mie prescrizioni e osservino le mie leggi e le mettino in pratica ed essi saranno il mio popolo ed io sarò il loro Dio ma quanto a quelli il cui cuore segue l'effetto che hanno alle loro cose esacrande e alle loro abominazioni io farò ricadere sul loro capo la loro condotta dice il Signore l'Eterno poi i cherubini spiegarono le loro ali e le ruote si mossero al lato a loro e la gloria dell'Idio di Israele stava su loro in alto e la gloria dell'Eterno si innalzò di sul mezzo della città e si fermò sul monte che ad oriente della città e lo spirito mi trasse in alto e mi menò in caldea presso quelli che erano in cattività in visione e mediante lo spirito di Dio e la visione che aveva avuta scomparve dinanzi a me ed io riferì a quelli che erano in cattività tutte le parole che l'Eterno mi aveva dette in visione Ezechiele capitolo dodicesimo la parola dell'Eterno mi fu ancora rivolta in questi termini figlio il Duomo tu abiti in mezzo a una casa ribelle che ha occhi per vedere non vede orecchi per udire e non ode perché è una casa ribelle perciò figlio il Duomo preparati un bagaglio da esiliato e parti di giorno in loro presenza come se tu andassi in esilio parti in loro presenza dal luogo dove tu sei per un altro luogo forse vi porranno mente perché sono una casa ribelle mettiti dunque fuori di giorno in loro presenza il tuo bagaglio simile a quello di chi va in esilio poi la sera esci tu stesso in loro presenza come fanno quelli che vanno esuli fa in loro presenza un foro nel muro e porta fuori per esso il tuo bagaglio portalo sulle spalle in loro presenza portalo fuori quando farà buio copriti la faccia per non vedere la terra perché io faccio di te un segno per la casa di israele e e io faccio così come era stato comandato trassi fuori di giorno il mio bagaglio bagaglio di esiliato e sulla sera fesci con le mie mani un foro nel muro e quando fu buio portai fuori il bagaglio e me lo misi sulle spalle loro presenza e la mattina la parola dell'eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il duomo la casa di israele questa casa ribelle non t'ha e l'ha detto cosa fai di loro così parla il signore l'eterno questo oracolo concerne il principe che è in gerusalemme e tutta la casa di israele di cui essi fan parte di io sono per voi un segno come ho fatto io così sarà fatto a loro essi andranno in esilio in cattività il principe che è in mezzo a loro porterà il suo bagaglio sulle spalle quando farà buio e partirà si farà un foro nel muro per farlo uscire di lì egli si coprirà la faccia per non vedere come sui occhi la terra e io stenderò su di lui la mia rete ed egli sarà preso nel mio laccio lo menerò a babilonia nella terra dei caldei ma egli non la vedrà e qui vi morrà e io disperderò a tutti i venti quelli che ho circondato per aiutarlo e tutti i suoi eserciti e sguainerò la spada dietro di loro ed essi conosceranno che io sono l'eterno quando li avrò sparsi fra le nazioni dispersi nei paesi stranieri ma lascerò di loro alcuni pochi uomini scampati dalla spada dalla fame e dalla peste affinché narrino tutte le loro abominazioni fra le nazioni dove saranno giunti e conosceranno che io sono l'eterno la parola dell'eterno mi fu ancora rivolta in questi termini figlio il duomo mangia il tuo pane con tremore e bevi la tua acqua con trepidanza ed ansietà e di al popolo del paese così parla il signore l'eterno riguardo agli abitanti di gerusalemme nella terra di israele mangeranno il loro pane con ansietà e berranno la loro acqua con desolazione perché il loro paese sarà desolato spogliato di tutto ciò che contiene a motivo della violenza di tutti quelli che l'abitano le città abitate saranno ridotte in rovine e il paese sarà desolato e voi conoscerete che io sono l'eterno e la parola dell'eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il duomo che proverbio è questo che voi ripetete nel paese di israele quando dite i giorni si prolungano ed ogni visione venuta meno perciò di loro così parla il signore l'eterno io farò cessare questo proverbio e non lo si ripeterà più in israele di loro invece i giorni si avvicinano e si avvicina l'averamento d'ogni visione poiché nessuna visione sarà più vana né vi sarà più divinazione ingannevole in mezzo alla casa di israele poiché io sono l'eterno qualunque sia la parola che avrò detta ella sarà messa ad effetto e non sarà più differita poiché nei vostri giorni o casa ribelle io pronunzierò una parola e la metterò ad effetto dice il signore l'eterno la parola dell'eterno mi fu ancora rivolta in questi termini figlio d'uomo ecco quelli della casa d'israele dicono la visione che costui contempla concerne lunghi giorni a venire ed egli profetizza per dei tempi lontani perciò di loro così parla il signore l'eterno nessuna delle mie parole sarà più differita la parola che avrò pronunziata sarà messa ad effetto dice il signore l'eterno ezechiele capitolo tredicesimo la parola dell'eterno mi fu rivolta in questi termini figliolo d'uomo profetizza contro i profeti di israele che profetano e dia quelli che profetano di loro senno ascoltate la parola dell'eterno così parla il signore l'eterno guai ai profeti stolti che seguono il loro proprio spirito e parlano di cose che non hanno vedute o israele i tuoi profeti sono state come volpi tra le rovine voi non siete saliti alle brecce e non avete costruito riparo intorno alla casa di israele per poter resistere alla battaglia nel giorno dell'eterno hanno delle visioni vane delle divinazioni menzioniere costoro che dicono l'eterno ha detto mentre l'eterno non li ha mandati e sperno che la loro parola si adempirà non avete voi delle visioni vane e non pronunziate voi divinazioni menzioniere quando dite l'eterno ha detto ed io non ho parlato perciò così parla il signore l'eterno poiché proferite cose vane e avete visioni menzioniere eccomi contro di voi dice il signore l'eterno la mia mano sarà contro i profeti delle visioni vane e delle divinazioni menzioniere essi non saranno più nel consiglio del mio popolo non saranno più iscritti nel registro della casa di israele e non entreranno nel paese di israele e voi conoscerete che io sono il signore l'eterno giacché si giacché sviano il mio popolo dicendo pace quando non ve alcuna pace e giacché quando il popolo edifica un muro ecco che costoro lo intonacano di malta che non regge di a quelli che lo intonaco di malta che non regge esso cadrà verrà una pioggia scrosciante e voi pietre di grandine cadrete e si scatenerà un vento impetuoso ed ecco quando il muro cadrà non vi si dirà egli dov'è la malta con cui l'avete intonacato perciò così parla il signore l'eterno io nel mio furore farò scatenare un vento impetuoso e nella mia ira farò cadere una pioggia scrosciante e nella mia indignazione delle pietre di grandine sterminatrice e demolirò il muro che voi avete intonacato con malta che non regge loro vescerò a terra e i suoi fondamenti saranno messi allo scoperto ed esso cadrà e voi sarete distrutti in mezzo alle sue rovine e conoscerete che io sono l'eterno così sfogherò il mio furore su quelli del muro e su quelli che l'hanno intonacato di malta che non regge e vi dirò il muro non è più e quelli che lo intonacavano non sono più cioè i profeti di Israele che profetavano riguardo a Gerusalemme e hanno per lei delle visioni di pace benché non vi sia pace alcuna dice il Signore l'Eterno e tu figlio d'uomo volgi la faccia verso le figliuole del tuo popolo che profetano di loro sentimento e profetizza contro di loro e di così parla il Signore l'Eterno guai alle donne che cuociono dei cuscini per i loro gomiti fanno dei guanciali per le loro teste ad ogni altezza per prendere le anime all'accio vorreste voi prendere all'accio le anime del mio popolo e salvare le vostre proprie anime voi mi profanate fra il mio popolo per delle manate d'orso e per dei pezzi di pane facendo morire le anime che non dovevano morire e facendo vivere le anime che non dovevano vivere mentendo al mio popolo che dà ascolto alle menzogne perciò così parla il Signore l'Eterno eccomi ai vostri cuscini coi quali voi prendete le anime all'accio come uccelli io ve li strapperò dalle braccia e lascerò andare le anime le anime che voi prendete all'accio come gli uccelli strapperò pure i vostri guanciali libererò il mio popolo dalle vostre mani ed egli non sarà più nelle vostre mani per cadere nei lacci e voi saprete che io sono l'Eterno poiché avete contristato il cuore del giusto con delle menzogne quando io non lo contristavo e avete fortificato le mani dell'Empio perché non si convertisse dalla sua via malvagia per ottenere la vita voi non avrete più visioni vane e non praticherete più la divinazione e io libererò il mio popolo dalle vostre mani e voi conoscerete che io sono l'Eterno Ezechiele capitolo 14 or vennero a me alcuni degli anziani di Israele e si sedettero davanti a me e la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il Duomo questi uomini hanno innalzato i loro idoli nel loro cuore e si sono messi davanti l'intoppo che li fa cadere nella loro iniquità come potrei io essere consultato da costoro perciò parla di loro così dice il Signore l'Eterno chiunque della casa di Israele innalza i suoi idoli nel suo cuore e pone davanti a sé l'intoppo che lo fa cadere nella sua iniquità e poi viene al profeta io l'Eterno gli risponderò come si merita per la moltitudine dei suoi idoli al fin di prendere per il loro cuore quelli della casa di Israele che si sono alienati da me tutti quanti per i loro idoli perciò di alla casa di alla casa di Israele così parla il Signore l'Eterno tornate ritraetavi dai vostri idoli storniate le vostre facce da tutte le vostre abominazioni poiché a chiunque della casa di Israele o degli stranieri che soggiornano in Israele si separa da me innalza i suoi idoli nel suo cuore e pone davanti a sé l'intoppo che lo fa cadere nella sua iniquità e poi viene al profeta per consultarlo per suo mezzo risponderò io l'Eterno da me stesso io volgerò la mia faccia contro quell'uomo ne farò un segno e un proverbio e lo sterminerò di mezzo al mio popolo e voi conoscerete che io sono l'Eterno e se il profeta si lascia sedurre e dice qualche parola io l'Eterno sono quelli che avrò sedotto quel profeta e stenderò la mia mano contro di lui e lo distruggerò di mezzo al mio popolo di Israele e ambedue porteranno la pena della loro iniquità la pena del profeta sarà pari alla pena di colui che lo consulta affinché quelli della casa di Israele non vedano più errando lungi da me e non si contaminano più con delle loro trasgressioni e siano invece il mio popolo e io sia il loro Dio dice il Signore l'Eterno e la parola dell'Eterno mi fu ancora rivolta in questi termini figliolo d'uomo se un paese peccasse contro di me commettendo qualche prevaricazione e io stendessi la mia mano contro di lui e gli spezzassi il sostegno del pane e gli mandassi contro la fame e ne sterminassi uomini e bestie e in mezzo ad esso si trovasse questi tre uomini Noè Daniele e Giobbe questi non salverebbero che le loro persone per la loro giustizia dice il Signore l'Eterno se io facessi passare per quel paese delle male bestie che lo spopolassero sì che esso rimanesse un deserto dove nessuno passasse più a motivo di quelle bestie se in mezzo ad esso si trovassero quei tre uomini come è vero che io vivo dice il Signore l'Eterno essi non salverebbero né figlioli né figliole essi soltanto sarebbero salvati ma il paese rimarrebbe desolato o se io facessi venire la spada contro quel paese dicessi passi la spada per il paese in guisa che ne sterminasse uomini e bestie se in mezzo ad esso si trovassero quei tre uomini come è vero che io vivo dice il Signore l'Eterno essi non salverebbero né figlioli né figliole ma essi soltanti sarebbero salvati o se contro quel paese mandassi la peste e riservassi su esso il mio furore fino al sangue per sterminare uomini e bestie se in mezzo ad esso si trovassero Noè Daniele e Giobbe non è come è vero che io vivo dice il Signore l'Eterno essi non sarebbero né figlioli né figliole non salverebbero né le loro persone per la loro giustizia poiché così parla il Signore l'Eterno non altrimenti avverrà quando manderò contro Gerusalemme i miei quattro tremendi giudizi la spada la fame le male bestie e la peste per sterminare uomini e bestie ma ecco ne scamperà un residuo dei figlioli e delle figliole che saranno menati fuori che giungeranno a voi e di cui vedrete la condotta e le azioni e allora vi consolerete del male che io faccio venire su Gerusalemme e di tutto quello che faccio venire su di lei essi vi consoleranno quando vedrete la loro condotta e le loro azioni e riconoscerete che non senza ragione io faccio quello che faccio contro di lei dice il Signore l'Eterno Ezechiele capitolo quindicesimo la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il duomo il legno della vite cos'è egli più di qualunque altro legno che cos'è il tralcio che è fra gli alberi della foresta se ne può egli prendere il legno per farne un qualche lavoro si può egli trarne un cavicchio da appendervi un qualche oggetto ecco esso è gettato nel fuoco perché si consumi il fuoco ne consuma i due capi e il mezzo si carbonizza e egli atto a farne qualche cosa ecco mentre era intatto non se ne poteva fare alcun lavoro quanto meno se ne potrà fare qualche lavoro quando il fuoco l'abbia consumato o carbonizzato perciò così parla il signore l'eterno com'è fra gli alberi della foresta il legno della vite che io destino al fuoco perché lo consumi così farò degli abitanti di gerusalemme io volgerò la mia faccia contro di loro dal fuoco sono usciti e il fuoco li consumerà e riconosceranno che io sono l'eterno quando avrò volto la mia faccia contro di loro e renderò il paese desolato perché hanno agito in modo infedele dice il signore l'eterno Ezechiele capitolo sedicesimo la parola dell'eterno mi fu ancora rivolta in questi termini figlio il duomo fa conoscere a gerusalemme le sue abominazioni e di così parla il signore l'eterno a gerusalemme per la tua origine e per la tua nascita sei del paese del cananeo tuo padre era un amoreo e tua madre un'itea quanto alla tua nascita il giorno che nascesti l'ombelico non ti fu tagliato non fosti lavata con acqua per nettarti non fosti sfregata con sale né fosti fasciata nessuno ebbe sguardi di pietà per te per farti una sola di queste cose avendo compassione di te ma fosti gettata nell'aperta campagna il giorno che nascesti per disprezzo che si aveva di te ed io ti passai accanto vidi che ti dibattevi nel sangue e ti dissi vivi tu che sei nel sangue e ti ripetei vivi tu che sei nel sangue io ti farò moltiplicare per miriadi come il germe nei campi e tu ti sviluppasti crescesti giungesti al colmo della bellezza il tuo seno si formò la tua capigliatura crebbe abbondante ma tu eri nuda e scoperta io ti passai accanto ti guardai ed ecco il tuo tempo era giunto il tempo degli amori io stessi su di te il lembo della mia veste e copersi la tua nudità ti feci un giuramento fermai un patto con te dice il Signore l'Eterno e tu fosti mia ti lavai con acqua ti ripulide il sangue che avevi addosso e ti unsi con olio ti misi delle veste ricamate dei calzari di pelle e di tasso ti scinsi il capo di lino fino ti ricopersi di seta ti fornì d'ornamenti ti misi dei braccialetti ai polsi e una collana al collo ti misi un anello al naso e dei pendenti degli orecchi e una magnifica corona in capo così fosti adorna d'oro d'argento e fosti vestita di lino fino di sete e di ricami e tu mangiasti fior di farina e miele d'olio e divenisti sommamente bella e giungesti fino a regnare e la tua fama si sparse fra le nazioni per la tua bellezza poiché essa era perfetta avendoti io coperta della mia magnificenza dice il Signore l'Eterno ma tu confidasti nella tua bellezza e ti prostituisti in grazia della tua fama e prodigasti le tue prostituzioni ad ogni passante e a chi voleva tu prendesti delle tue vesti e ti facesti degli alti luoghi parati di vari colori e qui vi ti prostituisti cose tali che non ne avvennero mai e non ne avverranno più prendesti pure i tuoi bei gioielli fatti del mio oro e del mio argento che io ti avevo dati e te ne facesti delle immagini d'uomo e ad esse ti prostituisti e prendesti le tue vesti ricamate e ne ricopristi quelle immagini dinnanzi alle quali tu ponesti il mio olio e il mio profumo parimente il mio pane che ti avevo dato il fior di farina l'olio e il miele con cui ti nutrivo tu li ponesti davanti a loro come un profumo di soave odore questo si fece dice il Signore l'Eterno prendesti inoltre i tuoi figliuoli e le tue figliuole che mi avevi partoriti e li offristi loro in sacrificio perché li divorassero non bastavano esse le tue prostituzioni perché tu avessi anche a scannare i miei figliuoli e a darli loro facendoli passare per il fuoco e in mezzo a tutte le tue abominazioni e le tue prostituzioni non ti sei ricordata dei giorni della tua giovinezza quando eri nuda scoperta e ti dibattevi nel sangue ora dopo tutta la tua malvagità guai guai a te dice il Signore l'Eterno ti sei costruita un bordello e ti sei fatto un altro luogo in ogni piazza pubblica hai costruito un altro luogo in ogni capo di strada hai reso abominevole la tua bellezza ti sei offerta ad ogni passante ed hai moltiplicato le tue prostituzioni ti sei pure prostituita agli egiziani i tuoi vicini dalle membra vigorose e hai moltiplicato le tue prostituzioni per provocarmi ad ira perciò ecco io ho steso la mia mano contro di te ho diminuito la provvisione che t'avevo fissata e t'ho abbandonata in balia delle figliuole dei filistei che t'odiano e hanno vergogna della tua condotta scelerata non sazia ancora ti sei pure prostituita agli assiri ti sei prostituita a loro e neppure allora sei stata sazia e hai moltiplicato le tue prostituzioni col paese di Canaan fino a Caldea e neppure con questo sei stata sazia come avvile il tuo cuore dice il Signore l'Eterno a ridurti a fare tutte queste cose che sfacciata prostituta quando ti costruivi il bordello ad ogni capo di strada e ti facevi gli alti luoghi in ogni piazza pubblica tu non eri come una prostituta già che sprezzavi il salario ma come una donna adultera che riceve gli stranieri invece del suo marito a tutte le prostitute si danno dei regali ma tu hai fatto dei regali a tutti tu hai fatto regali a tutti i tuoi manti e li hai sedotti con dei doni perché venissero da te da tutte le parti per le tue prostituzioni con te nelle tue prostituzioni è avvenuto il contrario delle altre donne giacché non eri tu la sollecitata in quanto tu pagavi invece d'esser pagata facevi il contrario delle altre perciò o prostituta ascolta la parola dell'Eterno così parla il Signore l'Eterno poiché il tuo denaro è stato dissipato e la tua nudità è stata scoperta nelle tue prostituzioni coi tuoi amanti e a motivo di tutti i tuoi idoli abominevoli e a cagione del sangue dei tuoi figlioli che hai dato loro ecco io radunerò tutti i tuoi amanti ai quali ti sei resa gradita e tutti quelli che hai amati insieme a quelli che hai odiati li radunerò da tutte le parti contro di te e scoprirò davanti a loro la tua nudità ed essi vedranno tutta la tua nudità io ti giudicherò alla stregua delle donne che commettono adulterio e spandono il sangue e farò che il tuo sangue sia sparso dal furore e dalla gelosia e ti darò nelle loro mani ed essi abbandoneranno il tuo bordello e ti distruggeranno i tuoi alti luoghi ti spoglieranno delle tue vesti ti prederanno dei bei gioielli e ti lasceranno nuda e scoperta e faranno salire contro di te una folla e ti lapideranno e ti trafiggeranno con le loro spade daranno alle fiamme le tue case faranno giustizia di te nel cospetto di molte donne ed io ti farò cessar dal farla prostituta e tu non pagherai più nessuno così io sfogherò il mio furore su di te e la mia gelosia si stornerà da te ma quetterò e non sarò più adirato poiché tu non ti sei ricordata gli giorni della tua giovinezza e mai provocato adira con tutte queste cose ecco anch'io ti farò ricadere sul capo la tua condotta dice il Signore l'Eterno e tu non aggiungerai altri delitti a tutte le tue abominazioni ecco tutti quelli che usano proverbi faranno di te un proverbio e diranno qual è la madre tale è la figlia tu sei figliola di tua madre che ebbe asseguito il suo marito e i suoi figlioli e se sorella delle tue sorelle che ebbero a sdegno i loro mariti e i loro figlioli vostra madre era un'ittea e vostro padre un amoreo la tua sorella maggiore che si sta a sinistra è Samaria con le sue figliole la tua sorella minore che ti sta a destra è Sodoma con le sue figliole e tu non soltanto hai camminato nelle loro vie e commesso le stesse loro abominazioni che erano troppo poco ma in tutte le tue vie ti sei corrotta più di loro com'è vero che io vivo dice il Signore l'Eterno Sodoma la tua sorella e le sue figliole non hanno fatto quel che avete fatto tu e le tue figliole ecco questa fu l'iniquità di Sodoma tua sorella lei e le sue figliole vivevano nell'orgoglio dell'abbondanza del pane e nell'ozio indolente ma non ostentavano la mano dell'afflitto e del povero erano altezzose e commettevano abominazioni nel mio cospetto perciò le feci sparire quando vidi ciò e Samaria non ha commesso la metà dei tuoi peccati tu hai moltiplicato le tue abominazioni più che l'una e l'altra e hai giustificato le tue sorelle con tutte le abominazioni che hai commesse anche tu porti il vituperio che hai inflitto alle tue sorelle coi tuoi peccati ti sei reso più abominevole di loro ed esse non più giusti di te tu pure dunque vergognati e porti il tuo vituperio poiché tu hai giustificato le tue sorelle io farò tornare dalla cattività quelli che là si trovano di Sodoma e delle sue figliole quelli di Samaria e delle sue figliole e quelli dei tuoi che sono in mezzo ad essi affinché tu porti il tuo vituperio che tu senta lontra di tutto quello che hai fatto e sii così loro di conforto la tua sorella Sodoma e le sue figliole torneranno nella loro condizione di prima Samaria e le sue figliole torneranno nella loro condizione di prima e tu e le tue figliole tornerete nella vostra condizione di prima Sodoma la tua sorella non era neppur mentovata dalla tua bocca nei giorni della tua superbia prima che la tua malvagità fosse messa nudo come avvenne quando fosti oltraggiata dalle figliole della Siria e da tutti i paesi cerconvicini dalle figliole dei filistei che ti insultavano da tutte le parti tu porti alla tua volta il peso della tua scelleratezza e delle tue abominazioni dice l'Eterno poiché così parla il Signore l'Eterno io farò a te come hai fatto tu chi hai sprezzato il giuramento infrangendo il patto non di meno io mi ricorderò del patto che fermai te con i giorni della tua giovinezza e stabilirò per te un patto eterno e tu ti ricorderai della tua condotta e ne avrai vergogna quando riceverai le tue sorelle quelle che sono più grandi e quelle che sono più piccole di te e io te le darò per figliole ma non in virtù del tuo patto e io fermerò il mio patto con te e tu conoscerai che io sono l'Eterno affinché tu ricordi e tu arrossisca e tu non possa più aprir bocca dalla vergogna quando io t'avrò perdonato tutto quello che hai fatto dice il Signore l'Eterno e Zecchiele capitolo dicesettesimo e la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il Duomo proponi un enigma e narra una parabola alla casa di Israele e di così parla il Signore l'Eterno una grande aquila dalle ampie ali e dalle lunghe penne coperta di piume di svariati colori venne a Libano e tolse la cima a un cedro e ne spiccò il più alto dei ramoscelli e lo portò in un paese di commercio e lo mise in una città di mercanti poi presi un germoglio del paese e lo mise in un campo di sementa e lo collocò presso acque abbondanti e lo piantò a guisa di magnolo esso crebbe e diventò una vite estesa di pianta bassa in modo da avere i suoi tralci volti verso l'aquila e le sue radici sotto di lei così diventò una vite che fece dei pampini e mise dei rami ma c'era un'altra grande aquila dalle ampie ali e dalle piumi abbondanti ed ecco che questa vite volse le sue radici verso di lei e dal suolo dove era piantata stese verso l'aquila i suoi tralci perché essa la naffiasse or essa era piantata in un buon terreno presso acque abbondanti in modo da poter mettere dei rami e portare frutto e divenire una vite magnifica di così parla il Signore l'Eterno può essa prosperare la prima aquila non svellerà essa le sue radici e non taglierà essa via i suoi frutti sì che si secchi e si secchino tutte le giovani foglie che metteva né ci sarà bisogno di molta forza né di molta gente per svellarla dalle radici ecco essa è piantata prospererà non si seccherà essa del tutto da che l'avrà toccato il vento d'oriente seccherà sul suolo dove ha germogliato poi la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini di dunque a questa casa ribelle non sapete voi che cosa vogliono dire queste cose di loro ecco il re di Babilonia è venuto a Gerusalemme ne ha preso il re e i capi e li ha menati con sé a Babilonia poi ha preso uno del sangue reale ha fermato un patto con lui e gli ha fatto prestar giuramento e ha preso pure gli uomini potenti del paese perché il regno fosse tenuto basso senza potersi innalzare e quelli osservasse il patto fermato con lui per poter sussistere ma il nuovo re si è ribellato contro di lui e ha mandato i suoi ambasciatori in Egitto perché gli fossero dati cavalli e gran gente colui che fa tali cose potrà prosperare scamperà ha rotto il patto e scamperebbe come vero che io vivo dice il Signore l'Eterno nella residenza stessa di quel re che l'aveva fatto re e verso il quale non ha tenuto il giuramento ne ha osservato il patto concluso vicino a lui in mezzo a Babilonia egli morrà faraone non andrà col suo potente esercito e con gran gente a soccorrerlo in guerra quando si eleveranno dei bastioni e si costruiranno delle torri per sterminare gran numero di uomini egli ha violato il giuramento infrangendo il patto eppure aveva dato la mano ha fatto tutte queste cose e non scamperà perciò così parla il Signore l'Eterno come vero che io vivo il mio giuramento che gli ha violato il mio patto che gli ha infranto io glieli farò ricadere sul capo io stenderò su lui la mia rete ed egli rimarrà preso nel mio laccio io lo menerò a Babilonia e qui vi entrerò in giudizio con lui per la perfidia di cui si è reso colpevole verso di me e tutti i fuggiaschi delle sue schiere cadranno per la spada e quelli che rimarranno saranno dispersi a tutti i venti e voi conoscerete che io l'Eterno sono quelli che ho parlato così dice il Signore l'Eterno ma io prenderò l'altavetta del cedro e la porrò in terra dai più elevati dei suoi giovani rami spiccherò un tenero ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto ed eminente lo pianterò sull'alto monte di Israele ed esso metterà rami porterà frutto e diventerà un cedro magnifico gli uccelli di ogni specie faranno sotto di lui la loro dimora faranno la loro dimora all'ombra dei suoi rami e tutti gli alberi della campagna sapranno che io l'Eterno sono quelli che ho abbassato dall'albero che era giù in alto e ho innalzato l'albero che era giù in basso e che ho fatto seccare l'albero verde e che ho fatto germogliare l'albero secco io l'Eterno l'ho detto e lo farò Ezechiele capitolo diciottesimo e la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini perché dite nel paese di Israele questo proverbio i padri ha mangiato l'agresto e ai figliuoli s'allegano i denti come è vero che io vivo dice il Signore l'Eterno non avrete più occasione di dire questo proverbio in Israele ecco tutte le anime sono mie e mia tanto l'anima del padre quanto quella del figlio l'anima che pecca sarà quella che morrà se uno è giusto e pratica l'equietà e la giustizia se non mangia sui monti e non alza gli occhi verso gli idoli della casa di Israele se non contamina la moglie del suo prossimo se non si accosta a donna mentre è impura se non opprime alcuno se rende al debitore il suo pegno se non commette rapine se dà il suo pane a chi ha fame e copre di vesti l'ignudo e se non presta interesse e non dà ad usura se ritrae la sua mano dall'iniquità e giudica secondo verità fra l'uomo e l'uomo se segue le mie leggi e osserva le mie prescrizioni operando con fedeltà quel tale è giusto certamente egli vivrà dice il Signore l'Eterno ma se ha generato un figliuolo che è un violento e che spande sangue e fa al suo fratello qualcuna di queste cose cose che il padre non commette affatto e mangia sui monti e contamina la moglie del suo prossimo e opprime l'afflitto e il povero e commette rapine e non rende il pegno alza gli occhi verso gli idoli e fa delle abominazioni presta interesse e dà ad usura questo figlio vivrà egli? no non vivrà egli ha commesso tutte queste abominazioni e sarà certamente messo a morte il suo sangue ricadrà su lui ma ecco che questi ha generato un figliuolo il quale avendo avuto tutti i peccati che suo padre ha commesso vi pommente e non facco tali cose non mangia sui monti non alza gli occhi verso gli idoli della casa di Israele non contamina la moglie del suo prossimo non opprime alcuno non prende pegni non commette rapine ma dà il suo pane a chi ha fame e copre di vesti l'ignudo non fa pesare le mani sul povero non prende interesse né usura osserva le mie prescrizioni e segue le mie leggi questo figliuolo non morrà per l'iniquità del suo padre egli certamente vivrà suo padre siccome è stato un oppressore e ha commesso rapine e danno al fratello e ha fatto ciò che non è bene in mezzo al suo popolo ecco che muore per la sua iniquità che se diceste perché il figliuolo non porta l'iniquità del padre egli è perché quel figliuolo pratica l'equità e la giustizia osserva tutte le mie leggi e le mette in effetto certamente egli vivrà l'anima che pecca è quella che morrà il figliuolo non porterà l'iniquità del padre e il padre non porterà l'iniquità del figliuolo la giustizia del giusto sarà sul giusto e l'impietà dell'empio sarà sull'empio e se l'empio si ritrae da tutti i peccati che commetteva se osserva tutte le mie leggi e pratica l'equità e la giustizia egli certamente vivrà e non morrà nessuna delle trascrizioni che ha commesse sarà più ricordata contro di lui per la giustizia che pratica egli vivrà provo io forse piacere se l'empio muore dice il signore l'eterno non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive e se il giusto si ritrae dalla sua giustizia e commette l'iniquità e imita tutte le abominazioni che l'empio fa vivrà egli nessuno dei suoi atti di giustizia sarà ricordato per la prevaricazione di cui si è reso colpevole e per il peccato che ha commesso e per tutto questo morrà ma voi dite la via del signore non è retta ascoltate dunque o casa di israele è proprio la mia via quella che non è retta non sono piuttosto le vie vostre quelle che non sono rette se il giusto si ritrae dalla sua giustizia e commette l'iniquità e per questo muore muore per l'iniquità che ha commessa e se l'empio si ritrae dall'impietà che commetteva e pratica l'equità e la giustizia farà vivere l'anima sua se ha cura di ritrarsi da tutte le trasgressioni che commetteva certamente vivrà non morrà ma la casa di israele dice la via del signore non è retta sono proprio le mie vie quelle che non sono rette o casa di israele non sono piuttosto le vie vostre quelle che non sono rette perciò io vi giudicherò a ciascuno secondo le vie sue o casa di israele dice il signore l'eterno tornate convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità gettate lungi da voi tutte le vostre trasgressioni per le quale avete peccato e fatevi un cuor nuovo e uno spirito nuovo e perché morreste o casa di israele poiché io non ho alcun piacere nella morte di colui che muore dice il signore l'eterno convertitevi dunque e vivete Ezechiele capitolo diciannovesimo e tu pronuncia una lamentazione sui principi di israele di che cos'era tua madre una leonessa fra i leoni stava accovacciata in mezzo alle oncelli e allevava i suoi piccini allevò uno dei suoi piccini il quale divenne un leoncello imparò a sbranare la preda e divorò gli uomini ma le nazioni ne sentirono parlare ed ei fu preso nella loro fossa lo menaron con dei raffi alle mascelle nel paese d'Egitto e quando ella vide che aspettava in vano e la sua speranza era delusa prese un altro dei suoi piccini e ne fece un leoncello questo andava e veniva fra i leoni e divenne un leoncello imparò a sbranare la preda e divorò gli uomini devastò i loro palazzi desolò le loro città il paese con tutto quello che conteneva fu atterrito al rumore dei suoi rugiti ma da tutte le province all'intorno le nazioni li diedero addosso li tessero contro delle reti e fu preso nella loro fossa lo misero in una gabbia con dei raffi alle mascelle e lo menarono al re di Babilonia lo menarono in una fortezza perché la sua voce non fosse più udita sui monti di Israele tua madre era come te simile a una vigna piantata presso alle acque era feconda ricca di tralci per l'abbondanza delle acque aveva dei rami forti da servire da scettri e sovrani sergeva nella sua sublimità fra il folto dei tralci era appariscente per la sua elevatezza per la moltitudine dei suoi sarmenti ma è stata divelta con furore è stata gettata a terra il vento orientale ne ha seccato il frutto e i rami forti ne sono stati rotti e seccati il fuoco li ha divorati ed ora è piantata nel deserto in un suolo arido e assetato un fuoco è uscito dal suo ramo fronzuto e ne ha divorato il frutto sì che non vè in essa più ramo forte né scettro per governare questa la lamentazione che è divenuta una lamentazione ezechiele capitolo ventesimo ora avvenne il settimo anno il decimo giorno del quinto mese che alcuni degli anziani di israele vennero a consultare l'eterno e si misero a sedere davanti a me e la parola dell'eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il duomo parla gli anziani di israele di loro così parla il signore l'eterno siete venuti per consultarmi com'è vero che io vivo io non mi lascerò consultare da voi dice il signore l'eterno giudicali tu figlio dell'uomo giudicali tu fa loro conoscere le abominazioni dei loro padri e di loro così parla il signore l'eterno il giorno che io scelsi israele e alzai la mano per fare un giuramento alla progenie della casa di giacobbe e mi feci loro conoscere nel paese d'egitto e alzai la mano per loro dicendo io sono l'eterno il vostro dio quel giorno alzai la mano giurando che li trarrei fuori dal paese d'egitto per introdurli in un paese che io avevo cercato per loro paese dove scorre il latte e il miele il più splendido di tutti i paesi e dissi loro gettate via ognuno di voi le abominazioni che attirano i vostri sguardi e non vi contaminate con gli idoli d'egitto io sono l'eterno il vostro dio ma essi si ribellarono contro di me e non mi volero dare ascolto nessun e si gettò via le abominazioni che attiravano il suo sguardo e non abbandonò gli idoli d'egitto allora parlai di voler riversare su di loro il mio furore e sfogare su loro la mia ira nel mezzo del paese d'egitto e non di meno io agì per amore del mio nome perché non fosse profanato negli occhi delle nazioni in mezzo alle quali essi si trovavano in presenza delle quali io mi ero fatto loro conoscere allo scopo di trarli fuori dal paese d'egitto e li trassi fuori dal paese d'egitto e li condussi nel deserto e diedi loro le mie leggi e fesci conoscere le mie prescrizioni per le quali l'uomo che le metterà in pratica vivrà e diedi pur loro i miei sabati perché se vissero di segno fra me e loro perché conoscessero che io sono l'eterno che li santifico ma la casa di Israele si ribellò contro di me nel deserto non camminarono secondo le mie leggi e rigettarono le mie prescrizioni per le quali l'uomo che le metterà in pratica vivrà e profanarono gravemente i miei sabati perciò io parlai di reversare su loro il mio furore nel deserto per consumarli non di meno io agì per amore del mio nome perché non fosse profanato negli occhi delle nazioni in presenza delle quali io li avevo tratti fuori dall'Egitto e alzai perfino la mano nel deserto giurando loro che non li farei entrare nel paese che avevo loro dato paese dove scorre il latte e il miele il più splendido di tutti i paesi perché avevano rigettato le mie prescrizioni non avevano camminato secondo le mie leggi e avevano profanato i miei sabati poiché il loro cuore andava dietro ai loro idoli ma l'occhio mio li risparmiò dalla distruzione e io non li sterminai del tutto nel deserto e dissi ai loro figlioli nel deserto non camminate secondo i proscetti dei vostri padri non osservate le loro prescrizioni e non vi contaminate mediante i loro idoli io sono l'Eterno il vostro Dio camminate secondo le mie leggi osservate le mie prescrizioni e mettetele in pratica santificate i miei sabati e siano essi un segno fra voi e me del quale si conosca che io sono l'Eterno il vostro Dio ma i figlioli si ribellarono contro di me non camminarono secondo le mie leggi e non osservarono le mie prescrizioni per metterle in pratica le leggi per le quali l'uomo che le mette in pratica vivrà profanarono i miei sabati ond'io parlai di riversare su di loro il mio furore e di sfogare su di loro la mia ira nel deserto non di meno io ritirai la mia mano ed agii per amore del mio nome perché non fosse profanato agli occhi delle nazioni in presenza delle quali li avevo tratti fuori dall'Egitto ma alzai pure la mano nel deserto giurando loro che li disperderei fra le nazioni e li spargerei per tutti i paesi perché non mettevano in pratica le mie prescrizioni e rigettavano le mie leggi profanavano i mie sabati e i loro occhi andavano dietro agli idoli dei loro padri e detti loro perfino delle leggi non buone e delle prescrizioni per le quali non potevano vivere e li contaminai con i loro propri doni quando facevano passare per il fuoco ogni primogenito per ridurli alla desolazione affinché conoscessero che io sono l'Eterno perciò figlio il Duomo parla la casa di Israele di loro così parla il Signore l'Eterno i vostri padri m'hanno ancora oltraggiato in questo conducendosi perfidamente verso di me quando li ebbe introdotti nel paese che avevo giurato di dar loro portarono i loro sguardi sopra ogni alto colle e sopra ogni albero fronzuto e qui vi offrirono i loro sacrifici qui vi presentarono le loro offerte provocanti qui vi misero i loro profumi do dorsoave e qui vi sparsero le loro libazioni ed io dissi loro che cos'è l'alto luogo dove andate e non di meno si è continuato a chiamarlo l'alto luogo fino al di d'oggi perciò di alla casa di Israele così parla il Signore l'Eterno quando vi contaminerete seguendo le vie dei vostri padri e vi prostituirete ai loro idoli esecrandi e quando offrendo i vostri doni e facendo passare per il fuoco i vostri figlioli vi contaminate fino al di d'oggi con tutti i vostri idoli mi lascerei io consultare da voi o casa di Israele com'è vero che io vivo dice il Signore l'Eterno io non mi lascerò consultare da voi non avverrà affatto quello che si passa per la mente quando dite noi saremo come le nazioni come le famiglie degli altri paesi e renderemo il culto al legno e alla pietra com'è vero che io vivo dice il Signore l'Eterno con mani forti con braccio disteso con scatenamento di furore io regnerò su voi e vi trarrò fuori di tra i popoli e vi raccoglierò dai paesi dove siete stati dispersi con mano forte con braccio disteso e con scatenamento di furore e vi condurrò nel deserto dei popoli e qui vi verrò in giudizio con voi faccia a faccia come venne in giudizio con i vostri padri nel paese d'Egitto così verrò in giudizio con voi dice il Signore l'Eterno e vi farò passare sotto la verga e vi rimetterò nei vincoli del patto e separerò da voi i ribelli e quelli che mi sono infedeli io li trarrò fuori dal paese dove sono stranieri ma non entreranno nel paese di Israele e voi conoscerete che io sono l'Eterno voi dunque casa di Israele così parla il Signore l'Eterno andate servite ognuno ai vostri idoli giacché non mi volete ascoltare ma il mio santo nome non lo profanerete più coi vostri doni e coi vostri idoli poiché sul mio nome santo è sull'alto monte di Israele dice il Signore l'Eterno là tutti quelli della casa di Israele tutti quanti saranno nel paese e mi serviranno là io mi compiacerò di loro là io chiederò le vostre offerte le premizie dei vostri doni in tutto quello che mi consacrerete io mi compiacerò di voi come di un profumo d'odorso ave quando vi avrò tratto fuori di tra i popoli e vi avrò radunati dai paesi dove sarete state dispersi e io sarò santificato in voi nel cospetto delle nazioni e voi conoscerete che io sono l'Eterno quando vi avrò condotti nella terra di Israele paese che giurai di dare ai vostri padri e là vi ricorderete della vostra condotta e di tutte le azioni con le quali vi siete contaminati e sarete disgustati di voi stessi per tutte le malvagità che avete commesse e conoscerete che io sono l'Eterno quando avrò agito con voi per l'amore del mio nome e non secondo la vostra condotta malvagia né secondo le vostre azioni corrotte o casa di Israele dice il Signore l'Eterno Ezechiele capitolo ventunesimo la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio d'uomo volta la faccia dal lato di mezzogiorno rivolgi la parola al mezzogiorno e profetizza contro la foresta della campagna meridionale e dia la foresta del mezzodì ascoltate la parola dell'Eterno così parla il Signore l'Eterno ecco io accendo in te un fuoco che divorerà in te ogni albero verde e ogni albero secco la fiamma dell'incendio non si estinguerà e tutto ciò che è sulla faccia del suolo ne sarà divampato dal mezzogiorno al settentrione ed ogni carne vedrà che io l'Eterno sono quelli che ho acceso il fuoco che non si estinguerà ed io gli dissi ahimè Signore Eterno costoro dicano di me egli non fa che parlare in parabole e la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il Duomo volta la faccia verso Gerusalemme e rivolgi la parola ai luoghi santi e profetizza contro il paese di Israele e dia al paese di Israele così parla l'Eterno eccomi a te io trarrò la mia spada dal suo fodero e sterminerò in mezzo a te i giusti e i malvagi appunto perché voglio sterminare in mezzo a te giusti e malvagi la mia spada uscirà dal suo fodero per colpire ogni carne nel mezzogiorno e nel setentrione e ogni carne conoscerà che io l'Eterno ho tratto la mia spada dal suo fodero e non vi sarà più rimessa e tu figlio d'uomo gemi coi lombi rotti e con dolore amaro gemi dinanzi agli occhi loro e quando ti chiederanno perché gemi rispondi per la notizia che sta per giungere ogni cuore si struggerà tutte le mani diverranno fiacche tutti gli spiriti verranno meno tutte le ginocchia si scioglieranno in acqua ecco la cosa giunge ed avvererà dice il Signore l'Eterno e la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio d'uomo profetize di così parla il Signore di la spada la spada è aguzzata ed anche forbita è aguzzata per fare un macello forbita perché folgoreggi si rallegrerè noi dunque ripeto lo scettro del mio figliuolo disprezza ogni legno il Signore l'ha data a forbire perché la si impugni la spada è aguzzata e se è forbita per metterla in mano di chi uccide grida e urla figlio d'uomo poiché essa è per il mio popolo è per tutti i principi d'Israele essi sono dati in balia della spada col mio popolo perciò percuoti la coscia poiché la prova è stata fatta e che dunque se perfino lo scettro sprezzante non sarà più dice il Signore l'Eterno e tu figlio d'uomo profetizza e batti le mani la spada raddoppi triplichi i suoi colpi la spada che fa strage la spada che uccide anche chi è grande la spada che li attornia io ho rivolto la punta della spada contro tutte le porte poiché il loro cuore si strugge e cresce in numero dei caduti sì essa è fatta per folgoreggiare e aguzza per il macello spada raccogliti volgiti a destra attenta volgiti a sinistra dovunque diretto il tuo filo e anch'io batterò le mani e sfoggerò nel mio furore io l'eterno sono quelli che ho parlato e la parola dell'eterno mi fu rivolta in questi termini e tu figlio il duomo fatti due vie per le quali la spada del re di Babilonia partano ambedue dal medesimo paese e traccia un indicatore tracciato al capo della strada di una città fa una strada per la quale la spada va di Arabba città dei figlioli di Amon e un'altra perché vada in Giuda e a Gerusalemme città fortificata poiché il re di Babilonia sta sul bivio in capo alle due strade per tirare presagi scuote le frecce consulta gli idoli esamina il fegato la sorte che è nella destra desegna Gerusalemme per collocarvi degli arrieti per aprire la bocca e ordinare il massacro per alzare la voce in gridi di guerra per collocare gli arrieti contro le porte per elevare bastioni per costruire delle torri ma essi non vedono in questo che una devinazione bugiarda essi a cui sono stati fatti tanti giuramenti ma ora egli si ricorderà della loro iniquità perché siano presi perciò così parla il Signore l'Eterno poiché avete fatto ricordare la vostra iniquità mediante le vostre manifeste trasgressioni sì che i vostri peccati si manifestano in tutte le vostre azioni poiché ne riceverete il ricordo e sarete presi dalla sua mano e tu o empio o dannato alla spada o principe di Israele il cui giorno è giunto al tempo del colmo dell'iniquità così parla il Signore l'Eterno la tirata sarà tolta il diadema sarà levato tutto sarà mutato ciò che è in basso sarà innalzato e ciò che è in alto sarà abbassato rovina 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 questo farò di lei anch'essa non sarà più finché non venga colui a cui appartiene il giudizio e al quale lo rimetterò e tu figlio il Duomo profetizza e di così parla il Signore l'Eterno riguardo ai figliuoli di Ammon e al loro proprio e di la spada la spada sguainata è forbita per massacrare per divorare per folgoreggiare mentre sanno per te delle visioni vane mentre sanno per te divinazioni bugiarde essa ti farà cadere fra i cadaveri degli empi il cui giorno è giunto al tempo del colmo dell'iniquità riponi la spada nel suo fodero io ti giudicherò nel luogo stesso dove fosti creata nel paese della tua origine e riverserò su di te la mia indignazione soffierò contro di te nel fuoco della mia ira e ti darò in mano d'uomini brutali artefici di distruzione tu starai pascolo al fuoco il tuo sangue sarà in mezzo al paese tu non sarai più ricordata perché io l'Eterno sono quelli che ho parlato Ezechiele capitolo ventiduesimo la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini ora figlio il Duomo non giudicherai tu non giudicherai tu questa città di sangue falle dunque conoscere tutte le sue abominazioni e di così parla il Signore l'Eterno oh città che spandi il sangue in mezzo a te perché il tuo tempo giunga e che ti fai degli idoli per contaminarti per il sangue che hai sparso ti sei resa colpevole e per gli idoli che hai fatto ti sei contaminata tu hai fatto avvicinare i tuoi giorni e sei giunta al termine dei tuoi anni perciò io ti espongo al vituperio delle nazioni e allo scherno di tutti i paesi quelli che ti sono vicini e quelli che sono lontani da te si faranno beffe di te e tu contaminata di fama e piena di disordine ecco i principi di Israele ognuno secondo il suo potere sono occupati in te a spandere il sangue in te si sprezza padre e madre in mezzo a te si opprime lo straniero in te si calpesta l'orfano e la vedova tu disprezzi le mie cose sante tu profani i miei sabati in te c'è della gente che calunnia per spandere il sangue in te si mangia sui monti in mezzo a te si commettono scelleratezze in te si scoprono le vergogne del padre in te si violenta la donna durante la sua impurità in te l'uno commette abominazione con la moglie del suo prossimo l'altro contamina l'incesto la sua nuora l'altro violenta la sua sorella figliola di suo padre in te si ricevono regali per spandere del sangue tu prendi interesse dai a usura tra i guadagno dal prossimo con la violenza e dimentichi me dice il signore l'eterno ma ecco io batto le mani a motivo del disonesto guadagno che fai e del sangue che da te è sparso che è in mezzo a te il tuo cuore reggerà egli o le tue mani saranno esse forte il giorno che io escerò contro di te io l'eterno sono quelli che ho parlato e lo farò io ti disperderò fra le nazioni ti spargerò fra i paesi e torrò via da te tutta la tua immondezza e tu sarai profanata da te stessa agli occhi delle nazioni e conoscerai che io sono l'eterno la parola dell'eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il duomo quelli della casa d'israele mi sono divenuti tante scorie tutti quanti non sono che rame stagno ferro piombo in mezzo al fornello sono tutte scorie d'argento perciò così parla il signore l'eterno poiché siete tutti divenuti tante scorie ecco io vi raduno in mezzo a gerusalemme come si raduna l'argento il rame il ferro il piombo e lo stagno in mezzo al fornello e si soffia nel fuoco per fonderli così nella mia ira e nel mio furore io vi radunerò vi metterò la e vi fonderò vi radunerò soffierò contro di voi nel fuoco del mio furore e voi sarete fusi in mezzo a gerusalemme come l'argento è fuso in mezzo al fornello così voi sarete fusi in mezzo alla città e voi saprete che io l'eterno sono quelli che riverso su di voi il mio furore e la parola dell'eterno mi fu rivolta in questi termini figliolo d'uomo di a gerusalemme tu sei una terra che non è stata purificata che non è stata bagnata da pioggia in un giorno di indignazione ve una cospirazione dei suoi profeti in mezzo a lei come un leone ruggente che sbrano una preda costoro divorano le anime piglian tesori e cose preziose moltiplicano le vedove in mezzo a lei i suoi sacerdoti violano la mia legge e profanano le mie cose sante non distinguono fra santo e profano non fanno conoscere la differenza che passa fra ciò che è impuro e ciò che è puro chiudono gli occhi sui miei sabati e io sono profanato in mezzo a loro i suoi capi in mezzo a lei sono come lupi che sbrano la loro preda spandono il sangue perdono le anime per saziare la loro cupidigia e i loro profeti intonacan tutto questo con malta che non regge hanno delle visioni vane pronostican loro la menzogna e dicono così parla il Signore l'Eterno mentre l'Eterno non ha parlato affatto il popolo del paese si dà la violenza commette rapine calpesta l'afflitto e il povero opprime lo straniero contro ogni equità ed io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse la scinta e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese perché io non lo distruggessi ma non l'ho trovato perciò io riverserò su loro la mia indignazione io li consumerò col fuoco della mia ira e farò ricadere sul loro capo la loro condotta dice il Signore l'Eterno Ezechiele capitolo ventitreesimo la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio d'uomo c'erano due donne figliuole ed una medesima madre le quali si prostituirono in Egitto si prostituirono nella loro giovinezza la furono premute le loro mammelle e la fu compresso il loro vergine seno i loro nomi sono quello della maggiore Hojola quello della sorella Hojolo Biba esse divennero mie e mi partorirono figliuoli e figliuole e questi sono i loro veri nomi Hojola è Samaria e Oliba è Gerusalemme e mentre era mia Hojola si prostituì e si appassionò per i suoi amanti gli assiri che erano suoi vicini vestiti di porpora governatori e magistrati tutti bei giovani cavalieri montati sui loro cavalli e la si prostituì con loro che erano tutti il fiore dei figliuoli d'Assiria e si contaminò con tutti quelli per i quali si appassionava con tutti i loro idoli ed ella non abbandonò le prostituzioni che commetteva con gli egiziani quando questi giacevano con lei nella sua giovinezza quando comprimevano il suo vergine seno e sfogavano su lei la loro lussuria perciò io l'abbandonai in balia dei suoi amanti in balia dei figliuoli d'Assiria per i quali si era appassionata essi scoprirono la sua nudità presero i suoi figliuoli e le sue figliuole la uccisero con la spada ed ella diventò famosa fra le donne e su lei furono eseguiti dei giudizi e la sua sorella vide questo e non di meno si corruppe più di lei nei suoi amori e le sue prostituzioni sorpassarono le prostituzioni della sua sorella si impassionò per i figliuoli d'Assiria che erano i suoi vicini governatori e magistrati vestiti pomposamente cavalieri montati sui loro cavalli tutti giovani e belli e io vidi che ella si contaminava ambedue seguivano la medesima via ma questa superò l'altra nelle sue prostituzioni vide degli uomini disegnati sui muri delle immagini di caldei dipinte in rosso con delle cinture ai fianchi con degli ampi turbanti in capo dall'aspetto di capitani tutti quanti ritratti dei figliuoli di Babilonia della caldea della loro terra natia e come li vide si appassionò per loro e mandò ad essi dei messaggeri in caldea e i figliuoli di Babilonia vennero a lei al letto degli amori e la contaminarono con le loro fornicazioni ed ella si contaminò con essi poi l'anima sua salienò da loro ed ella mise a nudo le sue prostituzioni mise a nudo la sua vergogna e l'anima mia salienò da lei come l'anima mia si era alienata dalla sua sorella non di meno ella moltiplicò le sue prostituzioni ricordandosi dei giorni della sua giovinezza quando si era prostituita nel paese d'Egitto e si appassionò per quei fornicatori delle membra d'asino dall'ardore di stalloni così tu tornasti alle turpitudine della tua giovinezza quando gli egiziani ti premevano le mammelle a motivo del tuo vergine seno perciò oh Oliba così parla il Signore l'Eterno ecco io susciterò contro di te i tuoi amanti dai quali l'anima tua si è alienata e li farò venire contro di te da tutte le parti i figlioli di Babilonia e tutti i caldei principi ricchi e grandi e tutti i figlioli da Siria con loro giovani e belli tutti i governatori e magistrati capitani e consiglieri tutti montati sui loro cavalli essi vengono contro te con armi carri e ruote e con una folla di popoli con targhe scudi ed elmi e si schierano contro di te d'ogni intorno e io rimetto in mano loro il giudizio ed essi ti giudicheranno secondo le loro leggi io darò corso alla mia gelosia contro di te ed essi ti trarranno con furore ti taglieranno il naso e gli orecchi e ciò che rimarrà di te cadrà per la spada prenderanno i tuoi figlioli le tue figliole e ciò che rimarrà di te sarà divorato dal fuoco e ti spoglieranno delle tue vesti e porteranno via gli oggetti che tu ti adorni ed io farò cessare la tua lussuria e la tua prostituzione cominciata nel paese d'Egitto e tu non alzerai più gli occhi verso di loro e non ti ricorderai più dell'Egitto poiché così parla il Signore l'Eterno ecco io ti do in mano di quelli che tu hai in odio o in mano di quelli dai quali l'anima tua si è alienata essi ti tratteranno con odio porteranno via tutto il frumento dal tuo lavoro e ti lasceranno nuda e scoperta e così saranno messe allo scoperto la tua vergogna della tua impudicizia la tua lussuria e le tue prostituzioni queste cose ti saranno fatte perché ti sei prostituita correndo dietro alle nazioni perché ti sei contaminata coi loro idoli tu hai camminato per la via della tua sorella e io ti metto in mano la sua coppa così parla il Signore l'Eterno tu berrai la coppa della tua sorella coppa profonda ed ampia e sarai esposta alle rise e alle beffe la coppa è di gran capacità tu sarai riempita di ebrezza e di dolore è la coppa della desolazione e della devastazione è la coppa della tua sorella Samaria e tu la berrai la vuoterai ne morderai i pezzi e ne squarcerai il seno poiché sono io quelli che ho parlato dice il Signore l'Eterno perciò così parla il Signore l'Eterno poiché tu mai dimenticato e mai buttato dietro le spalle porta dunque anche tu la pena della tua scelleratezza e delle tue prostituzioni e l'Eterno mi disse figlio il Duomo non giudicherai tu o Hola e o Holiba dichiara dunque loro le loro abominazioni poiché han commesso adulterio han del sangue sulle loro mani han commesso adulterio con loro idoli e gli stessi figliuoli che mi avevano partorito li han fatti passare per il fuoco perché servissero loro di pasto e anche questo mi hanno fatto in quel medesimo giorno han contaminato il mio santuario e han profanato i miei sabati dopo aver rimolato i loro figlioli e i loro idoli in quello stesso giorno sono venuti nel mio santuario per profanarlo ecco quello che hanno fatto in mezzo alla mia casa e oltre a questo hanno mandato a cercare uomini che vengano da lontano ed essi hanno inviato dei messaggeri ed ecco che sono venuti per loro ti sei lavata ti sei imbellettata gli occhi ti sei parata ad ornamenti ti sei assisa sopra un letto sontuoso davanti al quale era disposto una tavola e su quello hai messo il mio profumo e il mio olio e là sudiva il rumore di una folla sollazzante e oltre alla gente presa tra la folla degli uomini sono stati introdotti degli ubriachi venuti del deserto che hanno messo dei braccialetti ai polsi delle tue sorelle e dei magnifici diademi sul loro capo e io ho detto di quella invecchiata negli adulterii anche ora commettono prostituzioni con lei proprio con lei e si viene da essa come si va da una prostituta così si viene da Ohola e da Oliba da queste donne scelerate ma degli uomini giusti le giudicheranno come si giudicano le adultere come si giudicano le donne che spandano il sangue poiché sono adultere e hanno del sangue sulle mani perciò così parla il Signore l'Eterno sarà fatta salire contro di loro una moltitudine ed esse saranno date in balia del terrore e del saccheggio e quella moltitudine le rapiderà e le farà a pezzi con la spada ucciderà i loro figliuoli e le loro figliuole e darà alle fiamme le loro case ed io farò cessare la sceleratezza del paese e tutte le donne saranno ammaestrate a non commettere più turpitudini come le vostre e la vostra sceleratezza vi sarà fatta ricadere addosso e voi porterete la pena della vostra idolatria e conoscerete che io sono il Signore l'Eterno Ezechiele capitolo ventiquattresimo la parola dell'Eternomo è fu rivolta il nono anno il decimo mese e il decimo giorno del mese in questi termini figlio il Duomo scriviti la data di questo giorno di quest'oggi oggi stesso il re di Babilonia investe Gerusalemme e proponi una parabola a questa casa ribelle di loro così parla il Signore l'Eterno metti metti la pentola al fuoco e versaci dentro dell'acqua e raccogli dentro i pezzi di carne tutti i buoni pezzi coscia e spalla riempi la dossa scelte prendi il meglio del greggio e ammonta sotto la pentola la legna per farla bollire e falla bollire a gran bollore affinché anche le ossa che ci sono dentro cuociano perciò così parla il Signore l'Eterno guai alla città sanguinaria pentola piena di verde rame il cui verde rame non si stacca vuotala da pezzi uno ad uno senza tirare a sorte poiché il sangue che ha versato è in mezzo a lei essa lo ha posto sulla roccia nuda e l'ha sparso in terra per coprirlo di polvere per eccitare il furore e per farne vendetta ho fatto mettere quel sangue sulla roccia nuda perché non fosse coperto perciò così parla il Signore l'Eterno guai alla città sanguinaria anch'io voglio fare un gran fuoco ammonta la legna fa levare la fiamma fa cuocere bene la carne fa struggere il grasso e fa che le ossa si consumino poi metti la pentola vuota sui carboni perché si riscaldi e il suo rame diventi rovente affinché la sua impurità si strugga in mezzo ad essa e il suo verde rame sia consumato ogni sforzo è inutile il suo abbondante verde rame non si stacca e il suo verde rame non se ne andrà che mediante il fuoco vede l'asceleratezza nella tua impurità poiché io l'ho voluto purificare e tu non sei divenuta pura non sarai più purificata dalle tue impurità finché io non abbia sfogato su di te il mio furore io l'eterno sono quelli che ho parlato e la cosa avverrà io la compirò non indietreggerò non avrò pietà non mi pentirò tu sarai giudicata secondo la tua condotta secondo le tue azioni dice il signore l'eterno e la parola dell'eterno mi fu rivolta in questi termini figlio d'uomo ecco con un colpo improvviso io tolgo la delizia dei tuoi occhi e tu non far cordoglio non piangere non spander lacrime sospira in silenzio non portar lutto per i morti cingiti il capo col turbante e mettiti i calzari e i piedi e non ti coprire la barba e non mangiare il pane che la gente ti manda la mattina parlai al popolo e la sera mi morì la moglie e la mattina dopo feci come mi era stato comandato e il popolo mi disse non ci spiegherai tu che cosa significhi quello che fai e io risposi loro la parola dell'eterno mi è stata rivolta in questi termini di alla casa di israele così parla il signore l'eterno ecco io profanerò il mio santuario l'orgoglio della vostra forza la delizia degli occhi vostri il desio dell'anima vostra e i vostri figliuoli e le vostre figliuole che avete lasciato Gerusalemme cadranno per la spada e voi farete come ho fatto io non vi coprirete la barba e non mangerete il pane che la gente vi manda avrete i vostri turbanti in capo e i vostri calzari in piedi e non farete cordoglio e non piangerete ma vi consumerete di languore per le vostre iniquità e gemerete l'un con l'altro Ezechiele sarà per voi un simbolo tutto quello che fa lui lo farete voi e quando queste cose accadranno voi conoscerete che io sono il Signore l'Eterno e tu figlio il Duomo il giorno che io torrò loro ciò che fa la loro forza la gioia della loro gloria il desio dei loro occhi la brama dell'anima loro i loro figliuoli e le loro figliuole in quel giorno un fuggiasco verrà da te a recarti nella notizia e in quel giorno la tua bocca s'aprirà all'arrivo del fuggiasco e tu parlerai non sarai più muto e sarai per loro un simbolo ed essi conosceranno che io sono l'Eterno Ezechiele capitolo venticinquesimo la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il Duomo volgi la tua faccia verso i figliuoli Damon e profetizza contro di loro e di ai figliuoli Damon ascoltate la parola del Signore dell'Eterno così parla il Signore l'Eterno poiché tu hai detto ha ha quando il mio santuario è stato profanato quando il suolo di Israele è stato desolato e quando la casa di Giude è andata in cattività ecco io ti do in possesso dei figliuoli d'Oriente ed essi porranno in te i loro accampamenti e stabiliranno in mezzo a te le loro dimore e saranno essi che mangeranno i tuoi frutti essi che berranno il tuo latte io farò di Rabba un pascolo per i cammelli e del paese dei figliuoli Damon un ovile per le pecore e voi conoscerete che io sono l'Eterno poiché così parla il Signore l'Eterno poiché tu hai applaudito e battuto dei piedi e ti sei rallegrato con tutto lo sprezzo che nutrivi nell'anima per la terra di Israele ecco io stendo la mia mano contro di te ti do in pascolo alle nazioni ti stermino fra i miei popoli ti farò sparire dal novelo dei paesi ti distruggerò e tu conoscerai che io sono l'Eterno così parla il Signore l'Eterno poiché Moab e Seir dicano ecco la casa di Giuda e come tutte le altre nazioni ecco io aprirò il fianco di Moab dal lato della città dal lato della città che stanno alle sue frontiere e sono lo splendore del paese e aprirò il fianco di Moab ai figlioli dell'Oriente nello stesso modo che aprirò loro il fianco dei figlioli di Amon e darò quei paesi il loro possesso affinché i figlioli di Amon non siano più mentovati fra le nazioni ed eserciterò i miei giudizi su Moab ed essi conosceranno che io sono l'Eterno così parla il Signore l'Eterno poiché quelli d'Edom si sono crudelmente vendicati della casa di Giuda e si sono resi gravemente colpevole vendicandosi d'essa così parla il Signore l'Eterno io stenderò la mia mano contro Edom ne sterminerò uomini e bestie e ne farò un deserto fino a Teman e fino a Dedan cadranno per la spada e rimetterò la mia vendetta sopra Edom nelle mani del mio popolo di Israele esso tratterà ira e secondo il mio furore ed essi conosceranno la mia vendetta dice il Signore l'Eterno Così parla il Signore l'Eterno Poiché i filistei si sono abbandonati alla vendetta e si sono crudelmente vendicati con lo sprezzo che nutrivano nell'anima dandosi alla distruzione per odio antico Così parla il Signore l'Eterno Ecco io stenderò la mia mano contro i filistei esterminerò i caretei e distruggerò il rimanente della costa del mare ed eserciterò su loro grandi vendette e le riprenderò con furore ed essi conosceranno che io sono l'Eterno quando avrò fatto loro sentire la mia vendetta Ezechiele capitolo ventiseiesimo e avvenne l'anno un decimo il primo giorno del mese che la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figliolo d'uomo poiché tiro ha detto di Gerusalemme ha ha e infranta con lei che era la porta dei popoli la gente si volge verso di me io mi riempirò di lei che è deserta perciò così parla il Signore l'Eterno eccomi contro di te o tiro io farò salire contro di te molti popoli come fa il mare salire le proprie onde ed essi distruggeranno le mura di tiro e abbatteranno le sue torri io spazzerò via di su di lei la sua polvere e farò di lei una roccia nuda ella sarà in mezzo al mare un luogo da stenderle reti poiché sono io quelli che ho parlato dice il Signore l'Eterno ella sarà abbandonata al saccheggio delle nazioni e le sue figliuole che sono nei campi saranno uccise dalla spada e quei di tiro sapranno che io sono l'Eterno poiché così dice il Signore l'Eterno ecco io fo venire dal setenzione contro tiro Nabachodnestà re di Babilonia il re dei re con dei cavalli con dei carri con dei cavalieri e una gran folla di gente egli ucciderà con la spada le tue figliuole che sono nei campi e farà contro di te delle torri innalzerà contro di te dei bastioni leverà contro di te le targhe e dirigerà contro le tue mura i suoi arieti e i suoi picconi e abbatterà le tue torri e la moltitudine dei suoi cavalli sarà tale che la polvere sollevata da loro ti coprirà lo strepido dei suoi cavalieri delle sue ruote dei suoi carri farà tremare le tue mura quando egli entrerà per le tue porte come se entri in una città dove si è aperta una breccia con gli zoccoli dei suoi cavalli egli calpesterà tutte le tue strade ucciderà il tuo popolo con la spada e le colonne in cui riponi la tua forza cadranno a terra essi faranno l'oro bottino delle tue ricchezze saccheggeranno le tue mercanzie e abbatteranno le tue mura e distruggeranno le tue case deliziose e getteranno in mezzo alle acque le tue pietre il tuo legname la tua polvere io farò cessare il rumore dei tuoi canti e il suono delle tue arpe non si darà più e ti ridurrò ad essere una roccia nuda tu sarai un luogo da stendervi le reti e tu non sarai più riedificata perché io l'Eterno sono quelli che ho parlato dice il Signore l'Eterno così parla al Signore l'Eterno a tiro si al rumore della tua caduta al gemito dei feriti a morte al massacro che si farà in mezzo a te tremeranno le isole tutti i principi del mare scenderanno dai loro troni e si tornano i loro manti e deporranno le loro veste recamate e si avvolgeranno nello spavento e si sederanno per terra e tremeranno ad ogni istante e saranno costernati per via di te e prenderanno a fare su di te un lamento e ti diranno come mai sei distrutta tu che eri abitata da gente di mare la città famosa che eri così potente in mare tu che al pare dei tuoi abitanti incudevi terrore a tutti gli abitanti della terra ora ora le isole tremeranno il giorno della tua caduta le isole del mare saranno spaventate per la tua fine poiché così parla il Signore l'Eterno quando farò di te una città desolata come le città che non hanno più abitanti quando farò salire su di te l'abisso e le grandi acque ti copriranno allora ti trarò giù con quelli che scendono nella fossa fra il popolo d'un tempo e ti farò dimorare nelle profondità della terra nelle solitudini eterne con quelli che scendono nella fossa perché tu non sia più abitata mentre rimetterò lo splendore sulla terra dei viventi io ti ridurrò in uno spavento e non sarai più ti si cercherà ma non ti si ritroverà mai più dice il Signore l'Eterno Ezechiele capitolo ventisettesimo la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini e tu figlio al Duomo pronuncia una lamentazione su Tiro e dia Tiro che sta agli approdi del mare che porta le mercanzie dei popoli e molte isole così parla il Signore l'Eterno oh Tiro tu dici io sono di una perfetta bellezza il tuo dominio è nel cuore dei mari i tuoi edificatori t'hanno fatto di una bellezza perfetta e hanno costruito di cipresso di senire tutte le tue pareti hanno preso dei cedri del Libano per fare l'alberatura delle tue navi hanno fatto i tuoi remi di quercia di basham hanno fatto i ponti del tuo naviglio d'avorio incastrato in larisce portato dalle isole di Chitim il lino fino d'Egitto lavorato a ricami t'ha servito per le tue vele e per le tue bandiere la porpora e lo scarlato dell'isola di Elisha formano i tuoi padiglioni gli abitanti di Sidon ed Arvà sono i tuoi rematori i tuoi savi o tiro sono in mezzo a te sono dessi i tuoi piloti tu hai in mezzo a te gli anziani di Gebel e i suoi savi a calafettare le tue falle in te sono tutte le navi del mare coi loro marinai per far lo scambio delle tue mercanzie dei persiani dei lidi dei libii servono nel tuo esercito sono uomini di guerra che sospendono in mezzo a te lo scudo e l'elmo sono la tua magnificenza i figlioli d'Arvada e il tuo esercito guarniscono d'ogni intorno le tue mura e degli uomini prodi stanno nelle tue torri essi sospendono le loro targhe tutto intorno alle tue mura essi rendono perfetta la tua bellezza Tarsis traffica teco con la sua abbondanza d'ogni sorta di ricchezze e fornisce i tuoi mercanti d'argento di ferro di stagno e di piombo Yavan Tubal Meshek anche essi trafficano teco danno animi umane e utensili di rame in scambio delle tue mercanzie quelle della casa di Togarma pagano le tue mercanzie con cavalli da tiro con cavalli da corsa con muli i figlioli di Dedan trafficano teco il commercio di molte isole passa per le tue mani ti pagano con denti d'avorio con ebano la Siria commercia con te per la moltitudine dei tuoi prodotti fornisce fornisce i tuoi scambi di carbonchi di porpoare di stoffe ricamate di bisso di corallo di rubini giuda e il paese di Israele anche essi trafficano teco ti danno in pagamento grano di minit pasticcerie miele olio e balsamo damasco commercia teco scambiando i tuoi numerosi prodotti con abbondanza di ogni sorta di beni con vino di elbon e con lana candida vedan yuvan e undusal provvedano i tuoi mercanti ferro lavorato cassia canna aromatica sono fra i prodotti di scambio dedan traffica teco in coperte da cavalcatura l'arabia e tutti i principi di chedar fanno commercio teco trafficando in agnelli montoni in capri i mercanti di sceba e di rama anch'essi trafficano teco provvedendo i tuoi mercanti di tutti i migliori aromi di ogni sorta di pietre preziose e d'oro haram canne e eden e i mercanti di sceba e da siria e di chilma trafficano teco trafficano teco in ogni sorta di oggetti di lusso in mantelli di porpora di ricami in casse di stoffe preziose legate con corde fatte di cedro le navi di tarsi sono la tua flotta per il tuo commercio così ti sei riempita e ti sei grandemente arricchita nel cuore dei mari i tuoi rematori t'hanno menata nelle grandi acque il vento d'oriente si infrange nel cuore dei mari le tue ricchezze e i tuoi mercati e la tua mercanzia i tuoi marinai i tuoi piloti i tuoi calafati i tuoi negozianti tutta la tua gente di guerra che è in te e tutta la moltitudine che è in mezzo a te cadranno nel cuore dei mari il giorno della tua rovina alle gride dei tuoi piloti i lidi tremeranno e tutti quelli che maneggiano il remo i marinai e tutti i piloti del mare scenderanno dalle loro navi e si tireranno sulla terra ferma e faranno sentire la loro voce su di te grideranno amaramente si getteranno della polvere sul capo e si rotoleranno nella cenere a causa di te si riederanno il capo e si cingeranno di sacchi per te piangeranno con amarezza d'animo con cordoglio amaro e nella loro angoscia pronunzieranno su di te una lamentazione e si lamenteranno così riguardo a te chi fumai come tiro come questa città ora muta in mezzo al mare quando i tuoi prodotti uscivano nei mari tu saziavi gran numero di popoli con l'abbondanza delle ricchezze del tuo traffico a richivire e la terra quando sei stata infranta dai mari nelle profondità delle acque la tua mercanzia e tutta la moltitudine che era in mezzo a te sono cadute tutti gli abitanti delle isole sono sbigottiti a causa di te i loro re sono presi da orribile paura il loro aspetto è sconvolto i mercanti tra i popoli fischiano su di te sei diventato uno spavento e non esisterai mai più Ezechiele capitolo ventotesimo e la parola dell'eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il duomo di al principe di tiro così parla il signore l'eterno il tuo cuore si è fatto altero e tu dici io sono un dio io sto assiso sopra un trono di dio nel cuore dei mari mentre sei un uomo e non un dio quantunque tu ti faccia un cuore simile al cuore di un dio ecco tu sei più savio di Daniele nessun mistero è oscuro per te con la tua saviezza e con la tua intelligenza ti sei procurato ricchezza hai ammassato oro e argento nei tuoi tesori con la tua gran saviezza e col tuo commercio hai accresciuto le tue ricchezze e a motivo delle tue ricchezze il tuo cuore si è fatto altero perciò così parla il signore l'eterno poiché tu ti sei fatto un cuore come un cuore di dio ecco io fo venire contro di te degli stranieri i più violenti di fra le nazioni ed essi sguaineranno le loro spade contro lo splendore della tua saviezza e contamineranno la tua bellezza ti trarranno giù nella fossa e tu morrai della morte di quelli che sono trafitti nel cuore dei mari continuerai tu a dire io sono un dio in presenza di colui che ti ucciderà sarai un uomo e non un dio nelle mani di chi ti trafiggerà tu morrai della morte degli incirconcisi per mandi stranieri poiché io ho parlato dice il signore l'eterno e la parola dell'eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il duomo pronuncia una lamentazione sul re di tiro e digli così parla il signore l'eterno tu mettevi il suggello alla perfezione eri pieno di saviezza di una bellezza perfetta eri in eden il giardino di dio eri coperto d'ogni sorta di pietre preziose rubini topazzi diamanti crisoliti onici diaspri zaffiri carbonchi smeraldi oro tamburo e flauti erano al tuo servizio preparati il giorno che fosti creato eri un cherubino dalle ali distese un protettore io t'avevo stabilito tu stavi sul monte santo di dio camminavi in mezzo a pietre di fuoco tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato perché non si trovò in te la perversità per l'abbondanza del tuo commercio tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato perché io ti caccio come un profano dal monte di dio e ti farò sparire o cherubino protettore di mezzo alle pietre di fuoco il tuo cuore si è fatto al terro per la tua bellezza tu hai corrotto la tua saviezza a motivo del tuo splendore e io ti getto a terra e ti do in spettacolo ai re con la moltitudine delle tue iniquità con la disonestà del tuo commercio tu hai profanato i tuoi santuari e io faccio uscire di mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riduco in cenere sulla terra in presenza di tutti quelli che ti guardano tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatti al vederti tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più la parola dell'eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il duomo volgi la faccia verso Sidon e profetizza contro di lei e di così parla il signore l'eterno eccomi contro di te o Sidon e io mi glorificherò in mezzo di te e si conoscerà che io sono l'eterno quando avrò eseguito i miei giudizi contro di lei e mi sarò santificato in lei io manderà contro di lei la peste e ci sarà del sangue nelle sue strade e in mezzo ad essa cadranno gli uccisi dalla spada che piomberà su di lei da tutte le parti e si conoscerà che io sono l'eterno e non ci sarà più per la casa di Israele né spina maligna né rovo irritante fra tutti i suoi vicini che la disprezzano e si conoscerà che io sono il signore l'eterno così parla il signore l'eterno quando avrò raccolto la casa di Israele di mezzo ai popoli fra i quali essa è dispersa io mi santificherò in loro nel cospetto delle nazioni ed essi abiteranno il loro paese che io ho dato al mio servo Giacobbe vi abiteranno al sicuro edificheranno case e pianteranno vigne abiteranno al sicuro quando io avrò eseguito i miei giudizi su tutti quelli che li circondano e li disprezzano e conosceranno che io sono l'eterno il loro Dio Ezechiele capitolo ventinovesimo l'anno decimo il decimo mese il dodicesimo giorno del mese la parola dell'eterno mi fu rivolta in questi termini figliuolo d'uomo voci la tua faccia contro faraone re d'Egitto e profetizza contro di lui e contro l'Egitto tutto quanto e parla e di così parla il Signore l'Eterno eccomi contro di te faraone re d'Egitto gran coccodrillo che giaci in mezzo ai tuoi fiumi e dici il mio fiume è mio e sono io che me lo son fatto io metterò dei ganci nelle tue mascelle e farò sì che i pesci dei tuoi fiumi si attaccheranno alle tue scaglie e ti trarrò fuori di mezzo ai tuoi fiumi con tutti i pesci dei tuoi fiumi attaccati alle tue scaglie e ti getterò nel deserto te e tutti i pesci dei tuoi fiumi e tu cadrai sulla faccia dei campi e non sarai né adunato né raccolto e io ti darò impasto alle bestie della terra e agli uccelli del cielo e tutti gli abitanti dell'Egitto conosceranno che io sono l'Eterno poiché essi sono stati per la causa di Israele un sostegno di canna quando t'hanno preso in mano tu ti sei rotto e hai forato loro tutta la spalla e quando si sono appoggiati su di te tu ti sei spezzato e li hai fatti stare tutti i ritti sui loro fianchi perciò così parla il Signore l'Eterno ecco io farò venire sopra di te la spada e sterminerò in mezzo a te uomini e bestie il paese d'Egitto sarà ridotto in una desolazione in un deserto e si conoscerà che io sono l'Eterno perché Faraone ha detto il fiume è mio e son io che l'ho fatto perciò eccomi contro di te e contro il tuo fiume e ridurrò il paese d'Egitto in un deserto in una desolazione da Migdol a Sien fino alle frontiere dell'Etiopia non vi passerà pied'uomo e non vi passerà più di bestia né sarà più abitato per quarant'anni e ridurrò il paese d'Egitto in una desolazione in mezzo a contrade desolate e le sue città saranno una desolazione per quarant'anni in mezzo a città devastate e disperderò gli egiziani fra le nazioni e li spargerò per tutti i paesi poiché poiché così parla il Signore l'Eterno alla fine dei quarant'anni io raccoglierò gli egiziani di fra i popoli dove saranno stati dispersi e farò tornare gli egiziani dalla loro cattività e li ricondurrò nel paese di Patros nel loro paese natio e qui vi saranno un umile regno e l'Egitto sarà il più umile dei regni e non si eleverà più sopra le nazioni e io ridurrò il loro numero perché non dominano più sulle nazioni e la casa di Israele non riporrà più la sua fiducia in quelli che le ricorderanno l'iniquità dalle commesse quando si volgeva verso di loro e si conoscerà che io sono il Signore l'Eterno e il ventesettesimo anno il primo mese il primo giorno del mese la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il Duomo Nabucca de Nestar re di Babilonia ha fatto fare al suo esercito un duro servizio contro Tiro ogni testa né divenuta calva ogni spalla scorticata né egli e né il suo esercito hanno ricavato da Tiro alcun salario del servizio che gli ha fatto contro di essa perciò così parla il Signore l'Eterno ecco io do a Nabucca de Nestar re di Babilonia il paese d'Egitto ed egli ne porterà via le ricchezze e lo spoglierà ad ogni sua spoglia e vi prenderà ciò che vè da prendere e questo sarà il salario del suo esercito come retribuzione del servizio che gli ha fatto contro Tiro io gli do il paese d'Egitto poiché ha lavorato per me dice il Signore l'Eterno in quel giorno io farò rispuntare la potenza della casa di Israele e darò a te di parlare liberamente in mezzo a loro ed essi conosceranno che io sono l'Eterno Ezechiele capitolo trentesimo la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il Duomo profetizza e dì così parla il Signore l'Eterno urlate ai che giorno poiché il giorno è vicino è vicino il giorno dell'Eterno giorno di nuvole il tempo delle nazioni la spada verrà sull'Egitto e vi sarà terrore in Etiopia quando in Egitto cadranno i feriti a morte quando si porteranno via le sue ricchezze e le sue fondamenta saranno rovesciate l'Etiopia la Libia la Lidia Put L'Ud gli stranieri d'ogni sorta Cub e i suoi figli del paese dell'Alleanza cadranno con loro per la spada così parla l'Eterno quelli che sostengono l'Egitto cadranno e l'orgoglio della sua forza sarà abbattuto da Migdol a Sillenne essi cadranno per la spada dice il Signore l'Eterno e saranno desolati in mezzo a terre desolate e le loro città saranno devastate in mezzo a città devastate e conosceranno che io sono l'Eterno quando metterò il fuoco all'Egitto e tutti i suoi ausiliari saranno fiaccati in quel giorno partiranno dei messi dalla mia presenza su delle navi per spaventare l'Etiopia nella sua sicurtà e regnerà fra loro il terrore come nel giorno dell'Egitto poiché ecco la cosa sta per avvenire così parla il Signore l'Eterno io farò sparire la moltitudine dell'Egitto per mandi Nebucadenestà re di Babilonia egli e il suo popolo con lui i più violenti fra le nazioni saranno condotti a distruggere il paese sguaineranno le spade contro l'Egitto e riempiranno il paese d'uccisi e io muterò i fiumi e i luoghi aridi darò il paese in balia di gente malvagia e per mandi stranieri desolerò il paese e tutto ciò che contiene io l'Eterno sono quelli che ho parlato così parla il Signore l'Eterno io sterminerò da no gli idoli e ne farò sparire i falsi dèi non ci sarà più principe che venga dal paese d'Egitto e metterò lo spavento nel paese d'Egitto desolerò Patros darò alle fiamme Zoan eserciterò i miei giudizi sul no riverserò il mio furore sopra Sin la fortezza dell'Egitto e sterminerò la moltitudine di no appiccherò il fuoco all'Egitto Sin si torcerà dal dolore no sarà squarciata no sarà presa da nemici in pieno giorno i giovani di Ave e di Pibeseth cadranno per la spada e queste città andranno in cattività e Tapanes il giorno s'oscurerà quando io spezzerò quivi i giochi imposti dall'Egitto e l'orgoglio della sua forza avrà fine quanto a lei una nuvola la coprirà e le sue figliuole andranno in cattività così eserciterò i miei giudizi sull'Egitto e si conoscerà che io sono l'Eterno l'anno undicesimo il primo mese il settimo giorno del mese la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il Duomo io ho spezzato il braccio di Faraone re d'Egitto ed ecco il suo braccio non è stato fasciato applicandovi rimedi e mettendovi delle bende per fasciarlo e fortificarlo in guise da poter maneggiare una spada perciò così parla il Signore l'Eterno eccomi contro Faraone re d'Egitto per spezzargli le braccia tanto quello che è ancora forte quanto quello che è spezzato e gli farò cadere di mano la spada ed isperderò gli egiziani fra le nazioni e li spargerò per tutti i paesi e fortificherò le braccia del re di Babilonia e gli metterò in mano la mia spada e spezzerò le braccia di Faraone ed egli gemerà davanti a lui come geme un uomo ferito a morte fortificherò le braccia del re di Babilonia e le braccia di Faraone cadranno e si conoscerà che io sono l'Eterno quando metterò la mia spada in mano del re di Babilonia ed egli la volgerà contro il paese d'Egitto e io disperderò gli egiziani fra le nazioni e li spargerò per tutti il paese e si conoscerà che io sono l'Eterno Ezechiele capitolo trentunesimo l'anno undicesimo il terzo mese il primo giorno del paese e la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il Duomo di a Faraone re d'Egitto e alla sua moltitudine a chi somigli tu nella tua grandezza ecco la Siro era un cedro del Libano dai berami dall'ombra folta dal tronco slanciato dalla vetta sporgente fra il folto dei rami le acque lo nutrivano l'abisso lo faceva crescere andando con i suoi fiumi intorno al luogo dove era piantato mentre mandava i suoi canali a tutti gli alberi dei campi perciò la sua altezza era superiore a quella di tutti gli alberi della campagna e i suoi rami erano moltiplicati i suoi ramoscelli si erano allungati per l'abbondanza delle acque che lo facevano sviluppare tutti gli uccelli del cielo sannidiavano fra i suoi rami tutte le bestie dei campi figliavano sotto i suoi ramoscelli e tutte le grandi nazioni dimoravano alla sua ombra era bello per la sua grandezza per la sua lunghezza dei suoi rami poiché la sua radice era presso acque abbondanti i cedri non lo sorpassavano nel giardino di Dio i cipressi non uguagliavano i suoi ramoscelli e i platani non erano neppure come i suoi rami nessun albero nel giardino di Dio lo pareggiava in bellezza io l'avevo reso bello per l'abbondanza dei suoi rami e tutti gli alberi che sono nel giardino di Dio riportavano invidia perciò così parla il Signore l'Eterno perché era salito a tanta altezza e sporgeva la sua vetta fra il folto dei rami e perché il suo cuore s'era insuperbito dalla sua altezza io lo diedi in mano del più forte fra le nazioni perché lo trattasse a suo piacimento per la sua impietà io lo scacciai degli stranieri i più violenti fra le nazioni l'hanno tagliato e l'hanno lasciato in abbandono sui monti in tutte le valli sono caduti i suoi rami i suoi ramoscelli sono stati spezzati in tutti i borroni del paese e tutti i popoli della terra si sono ritirati dalla sua ombra e l'hanno abbandonato sul suo tronco caduto si posano tutti gli uccelli del cielo e sopra i suoi rami stanno tutte le bestie dei campi così è avvenuto affinché gli alberi tutti piantati presso alle acque non siano fieri della propria altezza non sporgan più la vetta fra il folto dei rami e tutti gli alberi potenti che si dissetano alle acque non persistano nella loro fierezza poiché tutti quanti sono dati alla morte nelle profondità della terra assieme ai figlioli degli uomini a quelli che scendono nella fossa così parla il Signore l'Eterno il giorno che discese nel soggiorno dei morti io feci fare cordoglio a motivo di lui velai l'abisso e ne arrestai i fiumi e le grandi acque furono fermate a motivo di lui io abbrunai il Libano e tutti gli alberi dei campi vennero meno a motivo di lui al rumore della sua caduta feci tremare le nazioni quando lo feci scendere nel soggiorno dei morti con quelli che scendono nella fossa e nella profondità della terra si consolarono tutti gli abitanti di Eden i più scelti e i più belli del Libano tutti quelli che si visitavano alle acque anche sì discessero con lui nel soggiorno dei morti verso quelli che la spada ha ucciso verso quelli che erano il suo braccio e stavano alla sua ombra in mezzo alle nazioni a chi dunque somigli tu per gloria e per grandezza fra gli alberi d'Eden così tu sarai precipitato con gli alberi d'Eden nelle profondità della terra tu giacerai in mezzo agli incirconcisi fra quelli che la spada ha uccisi tal sarà di Faraone con tutta la sua moltitudine dice il Signore l'Eterno Ezechiele capitolo trentaduesimo l'anno dodicesimo il dodicesimo mese il primo giorno del mese la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il Duomo pronunzia una lamentazione su Faraone re d'Egitto e digli tu eri simile a un leoncello fra le nazioni eri come un coccodrillo nei mari ti slanciavi nei tuoi fiumi e coi tuoi piedi agitavi le acque e ne intorbidivi i canali così parla il Signore l'Eterno io stenderò su di te la mia rete mediante gran moltitudine di popoli quali ti trarranno fuori con la mia rete e t'abbandonerò sulla terra e ti getterò sulla faccia dei campi e farò che su di te verranno a posarsi tutti gli uccelli del cielo e sazierò di te le bestie di tutta la terra e metterò la tua carne su per i monti e riempirò le valli dei tuoi avanzi e annaffierò del tuo sangue fin sui monti il paese dove tu nuoti e i canali saranno ripieni di te quando quando ti estinguerò velerò i cieli e ne oscurerò le stelle coprirò il sole di nuvole e la luna non darà la sua luce per via di te oscurerò tutti i luminari che splendono in cielo e stenderò le tenebre sul tuo paese dice il Signore l'Eterno affliggerò il cuore di molti popoli quando farò giungere la notizia della tua rovina fra le nazioni in paese che tu non conosci e farò sì che di te resteranno attoniti molti popoli e i loro re saranno presi da spavento per causa tua quando io brandirò la mia spada dinanzi a loro e ognundessi tremerà ad ogni istante per la sua vita nel giorno della tua caduta poiché così parla il Signore l'Eterno la spada del re di Babilonia ti piomberà addosso io farò cadere la moltitudine del tuo popolo per la spada d'uomini potenti tutti quanti i più violenti fra le nazioni ed essi distruggeranno il fasto dell'Egitto e tutta la sua moltitudine sarà annientata io farò perire tutto il suo bestiame di sulle rive delle grandi acque nessun piede d'uomo le intorbiderà più non le intorbiderà più unghia di bestia allora lascerò posare le loro acque e farò scorrere i loro fiumi come olio dice il Signore l'Eterno quando avrò ridotto il paese d'Egitto in una desolazione in un paese spogliato di ciò che conteneva e quando ne avrò colpito tutti gli abitanti e si conoscerà che io sono l'Eterno ecco la lamentazione che sarà pronunziata la pronunzieranno le figliuole delle nazioni pronunzieranno questa lamentazione sull'Egitto e su tutta la sua moltitudine dice il Signore l'Eterno è il dodicesimo anno il quindicesimo giorno del mese e la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio d'uomo intuona un lamento sulla moltitudine dell'Egitto e falle scendere lei e le figliuole delle nazioni illustri nelle profondità della terra con quelli che scendano nella fossa chi mai sorpassi tu in bellezza scendi e sarai posto a giacere con gli incirconcisi essi cadranno in mezzo agli uccisi per la spada la spada veddata trascinate l'Egitto con tutte le sue moltitudini i più forti fra i prodi e quelli che gli davano soccorso gli rivolgeranno la parola di mezzo al soggiorno dei morti sono scesi gli incirconcisi giacciono uccisi dalla spada là è l'assiro con tutta la sua moltitudine attorno a lui stanno i suoi sepolcri tutti sono uccisi caduti per la spada i suoi sepolcri sono posti nelle profondità della fossa e la sua moltitudine sta attorno al suo sepolcro tutti sono uccisi caduti per la spada essi che spaventavano il terrore sulla terra dei viventi là è Elam con tutta la sua moltitudine intorno al suo sepolcro tutti sono uccisi caduti per la spada incirconcisi scesi nelle profondità della terra essi che spandevano il terrore sulla terra dei viventi e han portato il loro proprio con quelli che scendono nella fossa han fatto un letto per lui e per la sua moltitudine in mezzo a quelli che sono stati uccisi attorno a lui stanno i suoi sepolcri tutti costoro sono incirconcisi sono morti per la spada perché spandevano il terrore sulla terra dei viventi e hanno portato il loro proprio con quelli che scendono nella fossa e sono stati messi fra gli uccisi la emese kek tubal e tutta la loro moltitudine attorno a loro stanno i loro sepolcri e tutti costoro sono incirconcisi uccisi dalla spada perché spandevano il terrore sulla terra dei viventi non giacciono quei prodi che sono caduti fra gli incirconcisi che sono scesi nel soggiorno dei morti con le loro armi da guerra e sotto il capo dei quali sono state poste le loro spade ma le loro iniquità stanno sulle loro ossa perché erano il terrore dei prodi sulla terra dei viventi tu pure sarai fiaccato in mezzo agli incirconcisi e gescerai con gli uccisi della spada là è Edon coi suoi re e con tutti i suoi principi i quali nonostante tutto il loro valore sono stati messi con gli uccisi di spada con essi giacciono con gli incirconcisi e con quelli che scendono nella fossa là sono tutti i principi del settentrione e tutti i sidoni che sono discesi in mezzo agli uccisi coperti d'onta nonostante il terrore che incuteva la loro bravura giacciono incirconcisi con gli uccisi di spada e portano il loro proprio con quelli che scendono nella fossa faraone li vedrà e si consolerà ad aver perduto tutta la sua moltitudine faraone e tutto il suo esercito saranno uccisi per la spada dice il signore l'eterno poiché io spanderò il mio terrore sulla terra dei viventi e faraone con tutta la sua moltitudine sarà posto a giacere in mezzo agli incirconcisi con quelli che sono stati uccisi dalla spada dice il signore l'eterno Ezechiele capitolo trentatreesimo e la parola dell'eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il duomo parla ai figlioli del tuo popolo e di loro quando io farò venire la spada contro un paese e il popolo di quel paese prenderà nel proprio seno un uomo e se lo stabilirà come sentinella ed egli vedendo venire la spada contro il paese e suonerà il corno e avvertirà il popolo se qualcuno pur udendo il suono del corno non se ne cura e la spada viene e lo porta via il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo egli ha udito il suono del corno e non se ne è curato il suo sangue sarà sopra di lui se se ne fosse curato avrebbe scampato la sua vita ma se la sentinella nel veder venire la spada e non suona il corno e il popolo non è stato avvertito e la spada viene e porta via qualcuno di loro questi sarà portato via per la propria iniquità ma io domanderò conto del sangue alla sentinella ora o figlio al duomo io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele quando dunque udrai qualche parola dalla mia bocca avvertili da parte mia quando avrò detto all'empio empio per certo tu morrai e tu non avrai parlato per avvertir l'empio che si ritragga dalla sua via quel l'empio morrà per la sua iniquità ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano ma se tu avverti l'empio che si ritragga dalla sua via e quelli non se ne ritrae esso morrà per la sua iniquità ma tu avrai scampato l'anima tua e tu figlio al duomo di alla casa di Israele voi dite così le nostre trasgressioni e i nostri peccati sono su noi e a motivo d'essi noi languiamo come potremo noi vivere di loro come è vero che io vivo dice il Signore l'Eterno io non mi compiaccio nella morte dell'empio ma che l'empio si converta dalla sua via è viva convertitevi convertitevi dalle vostre vie malvage e perché morireste voi o casa di Israele e tu figlio al duomo di ai figliuoli del tuo popolo la giustizia del giusto non lo salverà nel giorno della sua trasgressione e l'empio non cadrà per la sua impietà nel giorno in cui si sarà ritratto dalla sua impietà nello stesso modo che il giusto non potrà vivere per la sua giustizia nel giorno in cui peccherà quando io avro detto al giusto che per certo egli vivrà se egli confida nella propria giustizia e commette l'iniquità tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati e morrà per l'iniquità che avrà commessa e quando avro detto all'empio per certo tu morrai se egli si ritrae dal suo peccato e pratica ciò che è conforme al diritto e alla giustizia se rende il pegno se restituisce ciò che ha rapito se cammina secondo i precetti che danno la vita senza commettere l'iniquità per certo egli vivrà e non morrà tutti i peccati che ha commessi non saranno più ricordati contro di lui egli ha praticato ciò che è conforme al diritto e alla giustizia e per certo vivrà ma i figlioli del tuo popolo dicono la via del Signore non è ben regolata ma la via loro quella che non è ben regolata quando il giusto si ritrae dalla sua giustizia e commette l'iniquità egli muore a motivo di questo e quando l'empio si ritrae dalla sua e in pietà e si conduce secondo il diritto e la giustizia a motivo di questo vive voi dite la via del Signore non è ben regolata io vi giudicherò a ciascuno secondo le vostre vie o casa di Israele il dodicesimo anno della nostra cattività il decimo mese e il quinto giorno del mese un fuggiasco da Gerusalemme venne a me e mi disse la città è presa la sera avanti la venuta del fuggiasco la mano dell'Eterno era stata sopra di me e mi aveva aperto la bocca prima che quegli venisse a me la mattina la bocca mi fu aperta e io non fui più muto la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il Duomo gli abitanti di queste rovine del paese di Israele dicono abrahamo era solo eppure ebbe il possesso del paese e noi siamo molti il possesso del paese è dato a noi perciò di loro così parla il Signore l'Eterno voi mangiate la carne col sangue alzate gli occhi verso i vostri idoli spargete il sangue e possedereste il paese voi vi appoggiate sulla vostra spada commettete abominazioni ciascun di voi contamina la moglie del prossimo e possedereste il paese di loro così così parla il Signore l'Eterno com'è vero che io vivo quelli che stanno fra quelle rovine cadranno per la spada e quelli che sono per i campi li darò in pasto alle bestie e quelli che sono nelle fortezze e nelle caserme morranno di peste e io ridurrò il paese in una desolazione in un deserto l'orgoglio della sua forza verrà meno e i monti di Israele saranno così desolati che nessuno vi passerà più ed essi conosceranno che io sono l'Eterno quando avrò ridotto il paese in una desolazione in un deserto per tutte le abominazioni che hanno commesse e quanto a te figlio il Duomo i figlioli del tuo popolo discorrono di te presso le mura e sulle porte delle case e parlano l'uno con l'altro e ognuno col suo fratello e dicono venite dunque ad ascoltare qual è la parola che procede dall'Eterno e vengono da te come fa la folla e il mio popolo si siede davanti a te e ascolta le tue parole ma non le mette in pratica perché con la bocca fa mostra di molto amore ma il suo cuore va dietro alla sua cupidigia ed ecco tu sei per loro come una canzone d'amore ed uno che abbia una bella voce e sappia suonar bene essi ascoltano le tue parole ma non le mettono in pratica ma quando la cosa avverrà ed ecco che sta per avvenire essi conosceranno che in mezzo a loro c'è stato un profeta Ezechiele capitolo trentaquattresimo e la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio d'uomo profetizza contro i pastori di Israele profetizza e di a quei pastori così parla il Signore l'Eterno guai ai pastori di Israele che non han fatto se non che pascer se stessi non è forse il greggio quello che i pastori debban pascere voi mangiate il latte vi vestite della lana mazzate ciò che è ingrassato ma non pascete il greggio voi non avete fortificato le pecole deboli non avete guarito la malata non avete fasciato quella che era ferita non avete ricondotto la smarrita non avete cercato la perduta ma avete dominato su loro con violenza e con asprezza ed esse per mancanza di pastore si sono disperse e sono diventato pasto a tutte le fiere dei campi e si sono disperse le mie pecore vanno errando per tutti i monti e per ogni alto colle le mie pecore si disperdono su tutta la faccia del paese e non ve' alcuno che ne domandi alcuno che le cerchi perciò o pastori ascoltate la parola dell'eterno com'è vero che io vivo dice il signore l'eterno poiché le mie pecore sono abbandonate alla rapina poiché le mie pecore essendo senza pastore servono di pasto a tutte le fiere dei campi e i miei pastori non cercano le mie pecore poiché i pastori pascon se stessi e non pascon le mie pecore perciò ascoltate o pastori la parola dell'eterno così parla il signore l'eterno eccomi contro i pastori io ridomanderò le mie pecore alle loro mani e li farò cessare dal pascer le pecore i pastori non pasceranno più se stessi io strapperò le mie pecore dalla loro bocca ed esse non serviranno più loro da pasto poiché così dice il signore l'eterno eccomi io stesso domanderò delle mie pecore e ne andrò in cerca come un pastore va in cerca del suo gregio il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse così io andrò in cerca delle mie pecore e le ritrarrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre e le trarrò di fra i popoli e le radunerò dai diversi paesi e le ricondurrò sul loro suolo e le pascerò sui monti di Israele lungo i ruscelli e in tutti i luoghi abitati del paese io le pascerò in buoni pascoli e i loro ovili saranno sugli alti monti di Israele esse riposeranno quivi in buoni ovili e pascoleranno in grassi pascoli sui monti di Israele io stesso pascerò le mie pecore e io stesso le farò riposare dice il Signore l'Eterno io cercherò la perduta ricondurrò la smarrita faccerò la ferita fortilcherò l'ammalata ma distruggerò la grasa e la forte io le pascerò con giustizia e quant'è a voi o pecore mie così dice il Signore l'Eterno ecco io giudicherò fra pecora e pecore fra montoni e capri vi pare egli troppo poco il pascolare in questo buon pascolo che abbiate a pestare coi piedi ciò che rimane del vostro pascolo il bere le acque più chiare che abbiate e intorbidire coi piedi quelle che ne resta e le mie pecore hanno per pascolo quello che i vostri piedi hanno calpestato e devono bere ciò che i vostri piedi hanno intorbidito perciò così dice il loro Signore l'Eterno eccomi io stesso giudicherò fra la pecora grassa e la pecora magra siccome voi avete spinto col fianco e con la spalla e avete cozzato con le corna tutte le pecore deboli finché non le aveste disperse e cacciate fuori io salverò le mie pecore ed esse non saranno più abbandonate alla rapina e giudicherò fra pecore e pecora e susciterò sopra esse un solo pastore che le pascolerà il mio servo Davide egli le pascolerà egli sarà il loro pastore e io l'Eterno sarà il loro Dio e il mio servo Davide sarà il principe in mezzo a loro io l'Eterno sono quelli che ho parlato e fermerò con esse un patto di pace farò sparire le male bestie dal paese e le mie pecore dimorranno al sicuro nel deserto e dormiranno nelle foreste e farò che esse e i luoghi attorno al mio colle saranno una benedizione farò scendere la pioggia a suo tempo e saranno piogge di benedizione l'albero dei campi darà il suo frutto e la terra darà i suoi prodotti esse staranno al sicuro sul loro suolo e conosceranno che io sono l'Eterno quando spezzerò le sbarre del loro gioco e le libererò dalla mano di quelli che le tenevano schiave e non saranno più preda alle nazioni le fiere dei campi non le devoreranno più ma se ne staranno al sicuro senza che nessuno più le spaventi e farò sorgere per loro una vegetazione che le farà salire in fama e non saranno più consumate dalla fame nel paese e non porteranno più lo proprio delle nazioni e conosceranno che io l'Eterno li Dio loro sono con esse e che esse la casa di Israele sono il mio popolo dice il Signore l'Eterno e voi pecore mie pecore del mio pascolo siate uomini e io sono il vostro Dio dice l'Eterno